Salve, adesso iniziamo subito, apriamo i lavori, come ci dicevano appunto dalla regia, dal supporto tecnico, per questa prima parte vi chiediamo appunto di tenere le webcam spente e poi ci saranno la possibilità di fare domande e di interagire dopo. Per il momento diamo il via allora ufficialmente a questo Info Day, io vi do un caloroso benvenuto a tutti e a tutte, oggi ci concentreremo sulle opportunità offerte dal programma Erasmus+, per quanto riguarda l'accreditamento, quindi l'azione chiave 1 per il settore educazione degli adulti in vista della scadenza del primo ottobre prossimo. Io sono Lorenza Venturi, per chi non mi conosce, sono referente all'Agenzia Nazionale Erasmus+, per il settore appunto Erasmus dell'educazione degli adulti e per la piattaforma Epale, di cui parleremo anche in seguito, e che è appunto la piattaforma, proprio la grande community dedicata dalla Commissione Europea a tutto il mondo e quindi a tutti gli esperti dell'educazione degli adulti. Quindi è davvero un piacere oggi essere qui con voi e presentarvi queste opportunità, speriamo insomma che saremo in grado di rispondere a tutte le vostre domande, a tutte le vostre esigenze di informazione, ma come sapete poi l'Agenzia è sempre a vostra disposizione tramite tutti i canali nella sua sede di Firenze e di Roma, tramite il sito, tramite le mail, tramite le comunicazioni, quindi insomma ci siamo sempre, però oggi è il momento, è un momento importante di incontro, quindi io saluto con piacere, ringrazio della sua presenza, la dottoressa Immacolata Grimaldi che rappresenta l'autorità nazionale del programma Erasmus presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'unità di missione per l'attuazione del PNRR e quindi grazie Ima e prego a te subito la parola per un saluto. Grazie Lorenza, io ringrazio innanzitutto l'Agenzia Nazionale per avermi invitato a prendere parte a questo evento e vi porto i saluti dell'autorità nazionale del Ministero dell'Istruzione per il settore dell'Istruzione scolastica ed educazione degli adulti e del dottore Andrea Bollini. È un piacere in effetti partecipare a questo evento e il mio suggerimento è quello comunque di ascoltare oggi pomeriggio tutto quello che vi viene chiesto e di cimentarvi con quella che è una sfida, ma che sicuramente vi potrà portare dei vantaggi notevoli, sia in termini di programmazione, ma anche in termini di impatto, e quindi insomma, come dire, mettetecela tutta. Io vi auguro buon lavoro e ripasso la parola a Lorenza, grazie. Grazie Ima, sì davvero per certi aspetti, è una sfida ma è una sfida insomma che vale la pena intraprendere, almeno così insomma ci dicono tutti coloro che hanno partecipato finora. E appunto, come dicevamo, il primo di ottobre ci sarà la possibilità di fare domanda di accreditamento, vedremo esattamente oggi di che cosa si tratta. Questa è comunque una, diciamo, novità, ormai non più tanto novità, perché insomma è stata introdotta dal 2021, quindi per questa programmazione settennale, quindi sapete che la programmazione europea ha per esempio un arco di sette anni, quindi 2021-2027, abbiamo già avuto tre call, questa è la quarta, che hanno registrato un successo crescente e l'azione sta davvero funzionando bene, dopo insomma un inizio forse con qualche difficoltà, nel senso che ovviamente 2021 eravamo ancora in tempi di pandemia, c'era un po' la novità, ma adesso si sta davvero diffondendo. Siamo partiti con una quarantina di progetti accreditati, poi l'anno successivo sono diventati 55, poi 86, poi 113, quindi come vedete i numeri sono in crescita, i numeri dell'educazione degli adulti sono un pochino più piccoli rispetto a quelli che sono i numeri davvero esorbitanti, direi, per qualche aspetto dei nostri colleghi del settore della scuola, ma è comunque davvero un settore strategico e ci fa piacere appunto rilevare questa crescita. D'altronde i fondi a disposizione ci sono, e questa è la buona notizia, c'è una dotazione finanziaria importante, perché la Commissione Europea sostiene in maniera convinta il programma, assolutamente, e in particolare l'azione chiave 1, che è quella dedicata alla mobilità, mobilità individuale per apprendimento, che è poi quella che offre, possiamo dire, il maggior ritorno in termini di investimenti, nel senso che ogni euro speso, ogni euro speso in mobilità, porta davvero a dei risultati tangibili in termini di crescita personale e professionale dei partecipanti, nonché di crescita degli istituti partecipanti in termini di innovazione, di apertura internazionale, di collaborazione, quindi davvero in vista di una anche innovazione metodologica. Quest'anno, giusto per dare una cifra, sull'azione chiave 1, mobilità, avevamo 5 milioni di euro a disposizione, di cui l'80% vanno appunto ai progetti accreditati, il 20% ai progetti di breve durata, azione chiave 122. e non abbiamo ancora i numeri esatti per il prossimo anno, ma il budget è comunque sempre in crescita, soprattutto per quel che riguarda l'azione chiave 1, da qui al 2027. Quindi, insomma, non c'è che da mettersi all'opera, da pensare, da fare un ragionamento, sicuramente partendo da quelle che è l'analisi dei bisogni, del proprio istituto, della propria scuola, del proprio ente, della propria organizzazione e capire, insomma, appunto a quali bisogni, a quale necessità di sviluppo si vuole rispondere e mettere giù un piano di sviluppo che accompagni gradualmente il proprio ente all'acquisizione di nuove competenze e conoscenze. Le possibilità ci sono e sono buone, bisogna però comunque superare una dolorosa valutazione formale e di qualità. Soprattutto, però, e su questo insomma i miei colleghi adesso vi daranno tutte le indicazioni, e soprattutto però a monte bisogna inserirsi su quelle che sono le priorità strategiche del programma. perché Erasmus è, per così dire, il braccio operativo della Commissione Europea, per quel che riguarda i settori dell'istruzione e della formazione, ma si inserisce proprio a pieno titolo negli obiettivi politici e strategici dell'Unione Europea, che sono quelli di costruire una società inclusiva, coesa, resiliente, oltre che di rafforzare l'identità e i valori europei. Quindi è per questo che io ora, brevemente, passerò come sempre, ma penso che sia importante farlo, in rassegna quelle che sono le priorità strategiche del programma Erasmus, perché da queste davvero dipende la buona qualità del progetto e ovviamente le possibilità di successo. Innanzitutto, cappello, ricordiamo che l'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui, nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. E quindi in Europa e nel resto del mondo, perché il programma è aperto anche alla collaborazione con il resto del mondo, contribuisce alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità, alla coesione sociale, alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea alla cittadinanza attiva. Abbiamo da poco celebrato il raggiungimento dei 15 milioni di cittadini e cittadine europee che hanno beneficiato del programma a partire dal 1987 a oggi. Questo è un bellissimo risultato che condividiamo con voi e che contiamo di ampliare ulteriormente grazie a voi. Quindi dicevamo le priorità, sono quattro. Sono quattro le priorità strategiche che si applicano a tutti i settori del programma e che sono innanzitutto l'inclusione e la diversità, soprattutto per quel che riguarda il nostro settore dell'educazione degli adulti, che si rivolge per autonomasia a target fragili. È importante coinvolgere il programma Erasmus+, più partecipanti provenienti da vari contesti in modo inclusivo ed equo, superando potenziali ostacoli come disabilità, svantaggi economici, formativi, socioculturali, quindi la rimozione di tutti i tipi di ostacoli in inclusione davvero a 360 gradi. Inoltre poi abbiamo la grande sfida del nostro tempo, che è l'ambiente, la lotta al cambiamento climatico, quindi il programma, i progetti devono contribuire a rafforzare la comprensione del cambiamento climatico e della sostenibilità, promuovendo competenze green in tutti i settori dell'educazione. Abbiamo poi la trasformazione digitale, anche qua di nuovo nel nostro settore colmare il gap per quello che può riguardare i cittadini senior o comunque delle fasce di età più avanzate, ma anche dei giovani, quindi a crescere le competenze per sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, sia appunto nell'ambito proprio delle attività educative, per l'insegnamento e per l'apprendimento a tutti i livelli e per tutti i settori. E poi ultima, ma non meno importante, e sicuramente assume un valore particolare in questo momento e nel contesto geopolitico in cui ci troviamo a vivere, è la partecipazione alla vita democratica, ai valori comuni e all'impegno civico. è stato dimostrato più volte che la partecipazione al programma favorisce un atteggiamento diverso di partecipazione attiva alla vita sociale democratica, maggiore impegno civico, un senso di appartenenza al contesto europeo, promuovendo la conoscenza dei valori comuni. e quali sono questi valori? E poi io qui mi fermo per il momento, per questa introduzione, proprio nella guida al programma di quest'anno è stato inserito proprio una novità, un preciso riferimento a quelli che sono i valori fondanti dell'Unione Europea, che in qualche modo forse abbiamo finora dato troppo per scontati, per acquisiti, ma che invece ci dobbiamo impegnare a coltivare, a mantenere, a rispettare, a sostenere. E di che cosa sto parlando? Sto parlando del rispetto, della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, sono questi i pilastri della nostra Unione, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Ecco, purtroppo per certi aspetti vorrebbe da dire che la democrazia forse in questo momento non va più di moda, ma ecco, la storia non va avanti di suo, persino in automatico, dobbiamo insomma, anche attraverso, a partire proprio dalle attività di tutti i giorni, il coinvolgimento di tutti gli strati e della popolazione, lavorare appunto per una società più inclusiva, più coesa, più equa. e scusate se è poco. Quindi niente, ecco, questo insomma è proprio lo sfondo, lo sfondo che spasa il programma, lo sfondo istituzionale, strategico, ma che poi deve informare, deve permeare tutte le nostre attività. Quindi va bene, io insomma rimango, sarò qui con voi, dopo anche per le domande, però vi auguro fin da adesso assolutamente un buon lavoro, un buon Erasmus e cominciamo ecco questo viaggio dentro le opportunità con il contributo della collega Federica Bianchi dell'ufficio azione chiave 1 educazione degli adulti della nostra agenzia che vi illustrerà più nel dettaglio l'accreditamento. Grazie Salve a tutti Salve Allora andrò a condividere la mia presentazione sì come diceva la dottoressa Venturi sono mi occupo della Federica Bianchi mi occupo dell'azione chiave 1 del settore educazione degli adulti e partirei direttamente con la presentazione magari datemi un feedback se si benissimo la vediamo ce la puoi mettere in presentazione ok perfetto allora partiamo subito per capire effettivamente dove presentare la nostra richiesta ricordiamo innanzitutto che l'agenzia nazionale Erasmus Indire la quale si occupa del settore dell'educazione degli adulti è connotata da una dicitura IT02 e le richieste devono essere inoltrate all'agenzia del paese di appartenenza dell'organizzazione di invio ossia l'Italia i richiedenti possono possono presentare la candidatura come diceva la dottoressa Venturi entro il primo ottobre alle 12 mezzogiorno ora di Bruxelles ed è molto importante che le organizzazioni che hanno già ottenuto un accreditamento Erasmus non presentino nuovamente un nuovo accreditamento nello stesso settore poiché vale solamente un accreditamento ma andiamo a vedere nella concretezza effettivamente che cos'è l'accreditamento Erasmus allora stiamo parlando in primis della chiave dell'azione chiave 120 è lo strumento che permette ad enti e a scuole come singoli o in qualità di coordinatore di consorzio di accedere a dei finanziamenti garantiti per l'intera durata del programma nell'ottica di una strategia a lungo termine delineata in un piano Erasmus l'accreditamento Erasmus è uno strumento destinato alle organizzazioni del campo dell'istruzione degli adulti in questo settore che desiderano perciò ad aprirsi aprirsi alla dimensione di scambi di mobilità e l'assegnazione di di questo accreditamento Erasmus è la conferma del fatto che il richiedente riesca ad emettere un punto chiave il piano per realizzare attività di mobilità di qualità elevata nel quadro di un'iniziativa più ampia di sviluppo della propria organizzazione questo piano viene denominato piano Erasmus e rappresenta perciò un elemento che è fondamentale della domanda di accreditamento Erasmus i richiedenti possono presentare inoltre come dicevamo questa questa domanda di accreditamento per la propria organizzazione o in come coordinatore di consorzio di mobilità e successivamente vi è una richiesta di budget denominata CACI 121 ossia una richiesta di sovvenzione nella nella quale gli enti e le scuole accreditate possono presentare ogni anno una richiesta di finanziamento per attività di mobilità per la loro realizzazione proprio del progetto accreditato K 121 sempre del settore educazione degli adulti allora vediamo da subito di per sé qual è il vantaggio di richiedere un accreditamento allora in primis come denota bene la slide l'accreditamento K 120 è valido fino al 2027 ossia per l'intero programma Erasmus e vi sono differenti effetti positivi e durevoli nel tempo per le diverse organizzazioni coinvolte e per i partecipanti e le attività di mobilità in primis si può denotare l'accrescimento del livello qualitativo dell'istruzione formale informale e non formale degli adulti il miglioramento costante delle competenze e anche della qualità dell'offerta dell'istruzione degli adulti attraverso la professionalizzazione del personale lo sviluppo anche delle capacità degli erogatori di istruzione dell'istruzione degli adulti di attuare programmi di apprendimento di alta qualità molto importante è l'aumento del senso di iniziativa emancipazione e autostima andando a a far accrescere la qualità dell'insegnamento di tutti i tipi e migliorando l'offerta di per sé dell'interazione e operatività a livello internazionale interessante anche come da priorità del programma l'aumento della partecipazione degli adulti e di tutte le attività dei contesti socio-economici i requisiti per ottenere l'accreditamento nel settore dell'educazione degli adulti in primis vi è un momento di elegibilità nel quale gli enti che devono provvedere nel proprio statuto espressamente lo svolgimento di percorsi formativi che non siano professionalizzanti perciò tutta quella parte di acquisizione di competenze di base o trasversali di apprendimento formale non formale e informale rivolti a discenti adulti perché il nostro target come ben sappiamo sono i discenti adulti indipendentemente dalla professione svolta dalla condizione economica sociale e o dal rilascio di un titolo formale e nel campo dell'istruzione degli adulti queste organizzazioni questi enti possono essere sia enti privati che erogano istruzione degli adulti formale informale non formale come dicevamo autorità pubbliche locali regionali organismi di coordinamento e altre organizzazioni con un ruolo nel campo dell'istruzione degli adulti i criteri di selezione sono richiesti almeno per due anni di esperienza nell'attuazione di percorsi formativi non professionalizzanti come dicevamo rivolti a discenti adulti inoltre come dicevamo vi è questo piano Erasmus cioè l'importante per il 120 per l'azione chiave 120 è l'obiettivo a lungo termine cioè l'attività la gestione in linea con gli standard di qualità perciò il piano Erasmus la misura in cui il piano Erasmus è proposto è in linea con gli obiettivi degli accreditamenti Erasmus e gli obiettivi proposti per il piano Erasmus devono rispondere in modo chiaro e concreto alle esigenze del residente del personale e dei discenti e per i coordinatori di consorzio questo criterio si applica nell'interezza del consorzio previsto e richiede anche che gli obiettivi del piano Erasmus siano coerenti con lo scopo del consorzio quale definito nella domanda gli obiettivi del piano Erasmus proposte e la loro tempistica devono essere realistici e sufficientemente ambiziosi da ottenere un impatto positivo per l'associazione o per il consorzio stesso e le misure proposte devono seguire e valutare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del piano Erasmus che queste siano adeguate e concrete la valutazione di per sé del criterio di aggiudicazione è una valutazione qualitativa e vi è una soglia massima ossia 70 punti su 100 e bisogna raggiungere la metà del punteggio in questo criterio come dicevamo per gli anticoordinatori come da slide di consorzio è richiesta la capacità di gestione e coordinamento delle attività del consorzio esposte nel piano Erasmus nella propria interezza importante di per sé è che il piano Erasmus deve essere aggiornato almeno una volta nell'arco di 5 anni che significa che per garantire una pianificazione realistica il piano Erasmus presentato riguarderà un periodo più breve da 2 a 5 anni e sarà in questo caso comunque fino al 2027 e sarà aggiornato periodicamente sulla base del contenuto del piano Erasmus approvato almeno durante un periodo di questi 5 anni come da guida le organizzazioni accreditate saranno tenute a presentare una relazione in realtà che garantisca il rispetto delle norme di qualità Erasmus e in primis vi è un controllo e un monitoraggio da parte dell'agenzia nazionale per supportare di per sé anche gli accreditati coloro che si accrediteranno e questo è favorito direttamente anche dall'aggiornamento del piano Erasmus poiché l'agenzia sulla base delle prestazioni dell'organizzazione accreditata avrà comunque un feedback e di per sé tramite anche l'aggiornamento del piano Erasmus la lente può modificare il numero e il calendario il numero delle mobilità degli obiettivi implementare comunque le attività e favorendo anche una nuova analisi dei bisogni del lente stesso e la peculiarità del consorzio allora molto importante è favorire come detto in precedenza che i richiedenti possano candidarsi sia come singoli che anche come coordinatori di consorzio favorire di per sé il consorzio fa sì che vi sia maggiore partecipazione ossia favorisce di per sé la partecipazione di più enti e gli enti consorziati infatti hanno la possibilità di svolgere delle attività di mobilità senza dover presentare una loro candidatura poiché vi è più anche condivisione nella nella condivisione di per sé degli obiettivi dati dall'Erasmus Plan scusate e un consorzio offre anche la possibilità di lavorare insieme ad organizzazioni con interesse ed esperienze simili in aree tematiche specifiche questo fa sì che si possa venire a creare anche un riscontro una rete sul territorio creando in maniera anche capillare una una possibilità sul territorio di creare effettivamente una avere un riscontro interessante nello stesso settore e l'unione fa la forza poiché come dicevamo consente di mettere insieme le risorse per sopperire alle difficoltà di partecipare individualmente a un programma Erasmus andando avanti capiamo effettivamente quali possono essere queste mobilità parliamo di mobilità dello staff che si connotano in affiancamento lavorativo e qui in questa slide troverete anche la durata le attività di insegnamento o di formazione la frequenza a corsi strutturati altresì ritroviamo la mobilità dei discenti adulti mobilità di gruppo di breve periodo mobilità individuale di breve periodo e recentemente nel 2023 è stata introdotta la mobilità individuale di lungo periodo per i discenti adulti altre attività che ritroviamo sono in entrata ossia invitare esperti nel proprio ente e ospitare docenti ed educatori in formazione altresì abbiamo anche la possibilità tramite le visite preparatorie che non sono definite delle vere e proprie mobilità poiché sono delle visite presso una potenziale futura organizzazione ospitante effettuate dal personale dell'organizzazione di invio al fine di preparare al meglio l'attività e ogni visita preparatoria ricordiamo che deve essere motivata e deve servire a migliorare l'inclusività e la qualità delle attività di mobilità ad esempio possono essere organizzate per iniziare a cooperare con una nuova organizzazione partner o per preparare delle attività di mobilità più lunghe possono essere organizzate in previsione di qualsiasi attività eccetto dei corsi e della formazione andiamo a vedere però in concreto effettivamente chi fa parte dello staff e nello staff i nostri partecipanti ammissibili sono insegnanti formatori altri esperti e personale non docente dell'istruzione degli adulti il personale non docente ammissibile comprende il personale attivo nel campo dell'istruzione degli adulti sia in istituti ad esempio personale dirigente coordinatori Erasmus sia in altre organizzazioni del settore ad esempio volontari consulenti coordinatori Erasmus sempre coordinatori politici responsabili dell'istruzione degli adulti e ricordiamo che i partecipanti devono lavorare nell'organizzazione di invio devono perciò collaborare regolarmente con la realizzazione delle attività principali dell'organizzazione ad esempio come formatori esterni esperti o volontari in tutti i casi le mansioni svolte dal partecipante per l'organizzazione di invio devono essere documentate in modo da consentire a noi dell'agenzia nazionale di verificare l'esistenza di questo rapporto ad esempio che ci sia un contratto di lavoro o di volontariato una descrizione delle mansioni o di un documento simile questo fa sì che le agenzie stabiliscono una prassi trasparente e coerente per quanto riguarda ciò che costituisce un rapporto di lavoro accettabile di per sé invece adesso denotiamo i discenti adulti ossia i partecipanti ammissibili sono coloro che beneficiano di programmi attività di istruzione di adulti presso l'organizzazione di invio e nel contesto dell'istruzione informale e non formale degli adulti i discenti ammissibili possono comprendere tutte le persone che beneficiano di attività compresi servizi di orientamento consulenza sostegno analogo e sono fornite via questa completa l'istruzione si intende ogni adulto che è completa l'istruzione formale e iniziale o in essa non più coinvolto e che decida perciò di riprendere l'apprendimento continuo non professionale e importante che i partecipanti ammissibili sono i discenti che partecipano perciò a questo programma di istruzione degli adulti presso l'organizzazione di invio lo rimarchiamo poiché questo è proprio il nostro target cioè il discente adulto li minore opportunità allora possono prendere parte la mobilità anche i discenti che non che non hanno minore opportunità poiché si ricorda che l'inclusione è una delle priorità del programma ed è molto importante poiché dal 2023 possono possono prendere parte anche questa tipologia di discenti che è molto importante perché riesce a controbilanciare una combinazione inclusiva ed equilibrata dei profili e perciò riesce a coinvolgere significatamente anche dei partecipanti con minore opportunità e in linea con gli obiettivi dell'azione e andiamo a connotare di per sé chi sono queste persone con minore opportunità sono persone con minore opportunità coloro che per motivi economici sociali culturali geografici o di salute legati alla provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità e difficoltà di apprendimento inclusi quelli che possono dare luogo a forma di discriminazione si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma e in particolare si parla di low skilled adults ossia che adulti con delle basse competenze sono persone perciò di età adulta che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria un diploma professionale o un titolo equivalente è che in ragione di una situazione di svantaggio derivante da documentate condizioni psicologiche fisiche economiche sociali non possiedono una padronanza almeno a livello base delle competenze chiave per l'apprendimento permanente come da raccomandazione del consiglio europeo del 2018 e qui vi sono elencati comunque degli esempi ad esempio comunque dei migranti persone in disagio economico sociale gli anziani detenuti adulti senza licenza media o diploma di istruzione superiore i progetti di mobilità per l'apprendimento individuale cioè l'azione chiave 1 finanzia progetti di mobilità all'estero nei paesi associati al programma poiché le attività come ben sappiamo devono svolgersi all'estero in uno stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo associato al programma e qui vi ho elencato di per sé sia i paesi associati che non e molto importante come denotiamo che il Regno Unito non fa parte più non è più paese terzo poiché con con la Brexit non non lo è più e perciò questa è una cosa molto importante da ricordare soprattutto nell'implementazione delle attività e delle mobilità io in realtà termino qui non so effettivamente se se magari dopo si passerà direttamente alle domande spero di essere stata esaustiva e passo la la parola a a Martina Blasi alla dottoressa Blasi aspettate un perlopo buongiorno mi sentite sì bene allora buongiorno a tutti passo anch'io alla condivisione delle mie slide ecco qua buongiorno buongiorno a tutti io sono Martina Blasi lavoro appunto presso l'agenzia Erasmus in dire e nello specifico all'interno del settore dell'educazione degli adulti mi occupo della della gestione dell'implementazione di Epale che è la piattaforma europea che è all'interno del programma Erasmus e che è interamente dedicata appunto al supporto di questo settore è una piattaforma online ma è anche una community perché offre la possibilità di informarsi di avere appunto non solo di avere informazioni su ciò che accade in questo settore ma anche di scambiarsi commenti ci sono degli spazi interattivi c'è la possibilità di lavorare all'interno del programma Erasmus dentro Epale grazie a degli spazi che la community offre quindi è una è una piattaforma estremamente variegata con numerosissime funzioni e potenzialità proprio per sostenere il programma e l'azione chiave entrambi l'azione chiave uno e due si pone l'obiettivo la piattaforma Epale di creare delle reti naturalmente delle reti sia nazionali che poi europee per l'apprendimento permanente è a livello centrale è supervisionata dall'agenzia esecutiva e poi è gestita quotidianamente da un servizio di supporto centrale e dalle singole unità nazionali che sono 37 in tutto quindi noi per l'Italia appunto all'interno dell'agenzia Erasmus siamo l'agenzia siamo l'unità nazionale Epale Italia e gestiamo quella 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 la versione italiana della piattaforma controlliamo aggiorniamo implementiamo tutti i contenuti che vengono inseriti dagli utenti italiani o da noi stessi come unità nazionale siamo appunto la la finestra dell'Italia e di ciò che accade nell'educazione degli adulti in Italia all'interno di questa piattaforma che però è multilingue appunto perché abbraccia tutti i paesi che partecipano al programma quindi consultando la piattaforma che tra l'altro è disponibile in 32 versioni è possibile cambiando la versione linguistica è possibile vedere che cosa succede in altri paesi quali sono i contenuti che vengono pubblicati dalle altre agenzie nazionali e grazie alla possibilità del multilinguismo della piattaforma perché da una parte molti contenuti sono tradotti in più lingue quelli che non possono essere che non sono tradotti in più lingue possono comunque essere visualizzati nella propria lingua tramite lo strumento del traduttore automatico si riesce anche appunto a comprendere quei contenuti che magari non sono stati tradotti in più lingue e quindi si riesce ad avere una visione d'insieme tra l'altro gli utenti sono numerosissimi sono oltre adesso 150.000 utenti registrati e sono persone che appunto lavorando nel settore sia dell'educazione formale naturalmente che non formale e informale dell'educazione degli adulti operano affinché questo settore purtroppo ancora un po' dimenticato abbia invece la visibilità di cui ha bisogno e quindi noi spesso diciamo che Epale non è solo in realtà una community virtuale non è solo una piattaforma online ma è una community dietro alla quale ci sono delle persone reali delle persone fisiche e che spesso si incontrano infatti noi comunità Epale per esempio facciamo molti molti eventi in cui cerchiamo proprio di far questo di far sì che ciò che magari nasce dalla piattaforma ciò che in piattaforma viene promosso poi però abbia anche un continuo e anche realmente fisicamente fra le persone come iniziare per iniziare e usufruire totalmente delle potenzialità di Epale naturalmente è necessario iscriversi registrarsi registrarsi è molto facile perché è sufficiente appunto richiedere un login fare una registrazione inserire una password e poi riceverete una mail che vi rimanda al profilo che viene creato e a quel punto lo potete personalizzare cioè ogni utente può inserire la propria foto le proprie informazioni eccetera se come probabilmente è il vostro caso avete già un profilo etas potete accedere anche direttamente con quello una volta dentro come utente registrato potete appunto avere accesso sia a tutti i contenuti di informazioni quindi vedrete che ci sono blog notizie c'è un calendario degli eventi ci sono le risorse didattiche ma anche a quegli spazi che sono più collaborativi comunità di pratica spazi di discussioni spazi Erasmus che sono proprio per chi ha un progetto e vuole avere uno spazio di lavoro chiuso all'interno di Epale lo può richiedere c'è tutto ricerca partner c'è la ricerca delle organizzazioni quindi da una parte ci sono degli spazi più di carattere informativo e dall'altra ci sono degli spazi più di carattere di apprendimento e di collaborazione una volta che si è iscritti alla piattaforma è possibile naturalmente sia consultare che inserire cioè proporre un contenuto io posso leggere il racconto di un'esperienza Erasmus in un blog in Epale ma posso anche io stesso voler inserire un blog in cui voglio raccontare la mia esperienza e questo è fondamentale sappiamo quanto è importante comunicare il progetto quanto è importante comunicare i risultati dell'apprendimento che avviene grazie alle mobilità e ai progetti Erasmus ed Epale è sicuramente uno dei principali strumenti per la valorizzazione e la disseminazione dei risultati tutti i contenuti che un utente inserisce all'interno della piattaforma non vanno in automatico in piattaforma cioè non sono pubblicati in automatico naturalmente lì prima sono sottoposti da parte nostra dell'unità Epale ad un controllo un controllo sia formale che di qualità e poi una volta appunto constatato che il contenuto è corretto il contenuto viene pubblicato questo naturalmente il controllo è fondamentale perché altrimenti non ci sarebbe un controllo di qualità e chiunque potrebbe scrivere invece assicuriamo in questo modo la qualità di ciò che leggete non solo la qualità ma anche la pertinenza in questo enorme contenitore in questo enorme community ci sono filtri di ricerca ci sono modalità che permettano all'utente di muoversi andando a cercare il contenuto che cerca uno dei principali strumenti per indicizzare i contenuti è quello tematico ci sono infatti all'interno della piattaforma cinque temi discenti ambienti di apprendimento abilità politica e qualità questi cinque temi e ognuno di questi cinque temi è a sua volta suddiviso in sottotemi questo vi permette magari di fare anche delle ricerche tematiche potete fare sia delle ricerche tematiche che delle ricerche per tipologia di contenuto per esempio vado nella sezione dalla home page vado nella sezione blog vedo tutti i blog che sono stati iscritti vado agli eventi vedo tutti gli eventi oppure faccio una ricerca tematica quindi per esempio vado nella sezione politica clicco su Erasmus e vedo tutto ciò che blog event news risorse quindi diverse tipologie di contenuto è stato scritto con quel tag cioè che quindi ha una pertinenza con il programma racconta risultati o esperienze del programma Erasmus quindi diciamo che in home page per orientarvi vedrete che ci sono queste tre sezioni anche oltre ai temi e appunto e tutto ciò che vedrete che c'è in home page e le ultime utilizzazioni e quant'altro ci sono anche queste tre sezioni che invece danno ordine ai contenuti cioè i temi davano ordine alle tematiche appunto qua invece dice ma dove trovo un evento dove trovo quello o quell'altro in apprendi che appunto da cui potete accedere dall home page trovate tutto ciò che è apprendimento quindi le risorse didattiche i casi studio i corsi online le risorse educative aperte o IR il catalogo dei corsi i podcast che vengono implementati dal servizio di supporto centrale quindi tutto ciò che è apprendimento in contribuisce ci sono le news i blog gli eventi le storie della community quindi ci sono più di carattere informativo o narrativo e naturalmente tutto ciò che vi sto facendo vedere come utenti registrati lo potete da una parte consultare e dall'altra voi proporre e poi nella sezione collabora ci sono invece ciò che è più utile per voi che siete all'interno del mondo di Erasmus perché ci sono tutti quelli che sono gli spazi collaborativi di lavoro e anche la sezione partenariati che è quella del cerca partner dove potete trovare partner per progetti non solo partenariati ma anche per esempio per un job shadowing per le mobilità della mobilità ai fini dell'apprendimento qui ci sono anche all'interno di questa sezione ci sono degli spazi di lavoro che possono essere sia aperti per esempio una discussione uno vuole partecipare ad una discussione sul tema dell'italiano lingua 2 per i migranti va sulla discussione di interesse clicca sul partecipa entra dentro alla discussione in maniera libera altri spazi come l'Erasmus Space e gli spazi le community di pratica sono degli spazi privati quindi si richiede uno spazio di lavoro si ottiene proprio uno spazio di lavoro con una persona che è la moderatrice diciamo del gruppo e si fa partecipare a quel gruppo solo le persone che vediamo per il spazio privato quindi Epale è assolutamente di supporto Erasmus è di supporto per il cerca partner l'ho appena detto mi raccomando ogni sezione il consiglio prezioso è affidare la ricerca in maniera da andare a trovare esattamente ciò che ci interessa qualcuno ci ha messo un'acqua aperta se lo può sperare per esempio qua vedete questo è un esempio questa schermata è tratta dal cerca partner vedete che potete scegliere il paese per esempio dove cercate il partner il tipo di mobilità qua ho inserito visto che oggi appunto stiamo a parlare di mobilità un progetto Erasmus Mobility Activities e poi dopo il tipo di attività già cambia il filtro di ricerca si adatta a ciò che ha inserito precedentemente quindi ora il tipo di attività dà tutte le possibilità che una persona può avere quando cerca un partner all'interno di un progetto di mobilità quindi il job shadowing la mobilità di gruppo un corso un seminario e quanto altro quindi affinate la ricerca perché gli stessi filtri si vanno modificando in Erasmus è importante anche per trovare le organizzazioni per esempio consultare altre organizzazioni chiaramente non solamente italiane e anche questa è una sezione che si trova in collabora anche qui potete fare una ricerca mirata per esempio potete selezionare tra i filtri di ricerca se vedere all'interno delle organizzazioni registrate nei pali solo quelle che hanno un accreditamento individuale o come consorzio quindi anche questo è un filtro di ricerca importante e naturalmente quando voi andrete ad inserire la vostra organizzazione questa è invece una schermata tratta dalla maschera che vi appare quando andate a inserire la vostra organizzazione vi richiederà se avete un progetto Erasmus di inserire il codice di accreditamento inserendolo fate sì che dopo le persone vi possono ritrovare tramite il filtro che vi ho fatto vedere prima della ricerca ora sembra tutto molto difficile a dirlo in questo modo diciamo senza navigare dentro la piattaforma ma in realtà vedrete che insomma come tutte le le piattaforme le community online è abbastanza intuitiva quindi Epale è assolutamente di 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 supporto per il programma in tutte le sue funzionalità da contribuisci a collabora ad apprendi per usare al meglio la piattaforma è naturalmente comodo utile interessante visualizzare tutte le le diverse home page dei diversi paesi soprattutto anche l'home page comune che è quella in lingua inglese dove ci sono contenuti di tutti gli utenti e anche contenuti inseriti dal servizio di supporto centrale i contenuti che sono pubblicati in più lingue spesso appunto si trovano nell'home page inglese anche è un buon consiglio quello di scrivere di commentare di creare quindi di non perdere le possibilità che anche la piattaforma dà di networking è importante tenere il proprio profilo aggiornato perché un profilo senza una foto un nome che non dice nulla e senza una descrizione è difficile essere contattato invece se si dice appunto sono un docente lavoro in questo scipia mi occupo di questo di quell'altro più facile e magari si mette la propria descrizione anche in inglese o in più lingue sarà più facile essere contattati o comunque creare e suscitare ciò che per cui la piattaforma nasce cioè rete rete con gli altri persone che lavorano in questo settore noi come unità e pale Italia naturalmente sosteniamo tutto questo e cerchiamo di intercettare i bisogni del settore in Italia cerchiamo di dare alle persone la possibilità di raccontare e di raccontarsi cerchiamo di supportare tutte le reti nelle priorità che l'educazione degli adulti ha la scipia alle grandi tematiche dell'educazione degli adulti quindi il sostegno alle categorie più fragili l'educazione in carcere l'alfabetizzazione digitale cerchiamo quindi di creare di individuare anche quando in ogni momento una tematica di particolare urgenza in modo poi da dare vita ai nostri eventi che sono eventi o di carattere diciamo seminari oppure ci sono alcuni eventi che noi organizziamo implementiamo sono gli scopri Erasmus con i pale questi sono degli eventi in cui promuoviamo uno specifico tema una specifica priorità all'interno della progettazione Erasmus quindi diciamo poi facciamo dei laboratori per l'uso della piattaforma questi li facciamo anche online quindi diciamo noi abbiamo ci muoviamo in unità e pale in diversi modi e naturalmente collaboriamo oltre che con le altre unità nazionali e pale collaboriamo anche con la RUJAP la rete delle università italiane per l'apprendimento permanente con la quale pubblichiamo le Pali Journal che è una rivista scientifica sia cartacea che in formato digitale italiano e inglese collaboriamo con la RIDAP che è la rete italiana per l'istruzione degli adulti e in particolar modo con la rete della RIDAP che si occupa della promozione delle nuove tecnologie all'interno del sistema di istruzione degli adulti collaboriamo con le strutture in dire che si occupano non solo di educazione degli adulti ma anche di innovazione partecipazione e metodologie partecipative perché appunto naturalmente anche la partecipazione è fondamentale rientra sempre nelle priorità di Epale e abbiamo visto di Erasmus collaboriamo con l'archivio diaristico nazionale e soprattutto facciamo parte del comitato scientifico del progetto DINMI per i diari multimediali migranti insomma le collaborazioni sono numerose sono quelle che ci danno modo di essere diciamo presenti e essere informati anche noi su ciò che possiamo offrire nella community sia appunto come informazione ma anche fisicamente come incontri che voi trovate sempre poi promossi nel caso che ci siano queste attività su tutti i canali social di Indire Erasmus sepale sul sito dell'agenzia sulla piattaforma stessa ogni volta che appunto organizziamo o stiamo organizzando un evento trovate le modalità di partecipazione nei canali social nel caso foste interessati questo è alcune immagini tratte dalle pale ed uac che è uno degli eventi che organizziamo quest'anno abbiamo fatto nel duemilaventitré la terza edizione l'hackathon è una maratona in cui una competizione che è rivolta al il nostro etale duac è rivolto al mondo dell'istruzione degli adulti quindi formale ma ogni scuola che sia CIFIA o un istituto secondario che offre percorsi secondo livello per gli adulti ogni scuola deve essere e deve avere nella propria squadra un un rappresentante del terzo settore un rappresentante del territorio quindi le squadre in realtà poi si compongono miste e cosa succede qua è una gara in cui ogni anno poniamo una sfida vedete una volta dovevano ideare la loro scuola ideale la seconda edizione era fare face con l'ambiente quindi si dovevano fare delle proposte territoriali di innovazione digitale per la transizione verde la terzo anno abbiamo parlato di cittadinanza e le squadre composte quindi dai docenti dagli alunni e da un elemento del territorio rappresentante del territorio devono progettare insieme la risposta alla sfida che noi diamo tramite le nuove tecnologie con l'ausilio delle nuove tecnologie è un un evento che crea ogni anno una grande partecipazione e che vedete per esempio quest'anno ha vinto questo progetto ci parlo io del CPA1 di Bergamo che è appunto lo sviluppo di un'app che possa aiutare e integrare gli studenti stranieri a sostegno l'uno degli altri anche da un punto di vista linguistico quando arrivano appunto sono appena arrivati in Italia questo è un evento estremamente importante che se tra di voi ci sono dei docenti dei CIPIA che possono essere interessati tenetevi informati sull'edizione del 2024 perché è veramente una grande occasione per i vostri studenti e per voi questa è l'epale journal che è la rivista di cui vi parlavo precedentemente quindi in collaborazione è una rivista scientifica che noi pubblichiamo in collaborazione appunto con la RUJAP questi sono gli ultimi numeri il numero 13 il numero 14 sulla valorizzazione della terza missione dell'università questo è l'ultimo numero gli ambasciatori epale sono invece un'enorme rete di professionisti che ci aiutano da quest'anno sono 122 mi pare quindi la rete è veramente enorme e sul sito dell'agenzia trovate una sezione proprio dedicata agli ambasciatori Erasmus in cui potete vedere per ogni regione quali sono gli ambasciatori cioè potete cliccare sulla regione vedere quali sono gli ambasciatori di quella regione e di che cosa si occupano e potete anche contattarli è una rete di professionisti che opera in tutti tutti i settori dell'educazione degli adulti e che è al nostro supporto a supporto dell'agenzia per la collaborazione per l'organizzazione degli eventi perché loro stessi promuovono e organizzano eventi nel loro territorio di promozione del programma di promozione della piattaforma epale e quindi spesso consultando le loro attività che vengono anche queste sempre promosse tramite i nostri canali social potete magari trovare qualcosa che viene organizzato nella vostra città e che magari è al quale che può essere anche un evento non per forza solo online ma anche magari in presenza oppure potete contattare queste persone per avere informazioni sul programma insomma sono delle antenne sul territorio da un punto di vista e quindi gli ambasciatori Erasmus sono assolutamente nell'educazione degli adulti una risorsa che l'agenzia offre e come Epale invece oltre agli eventi che organizziamo noi come Unità Nazionale Epale Italia ci sono poi alcuni eventi che invece sono organizzati a livello europeo tra cui appunto vedete che ad ottobre ci sarà la community conference che è molto interessante è molto interessante per chi lavora in questo settore perché appunto è online è sia online che il primo giorno in presenza e offre l'opportunità appunto di avere una visione di partecipare ad una conferenza sulle tematiche a livello trasversale a livello europeo ehm quest'anno eh ogni giorno 15, 16 e 17 ottobre della community è dedicato ad uno dei topic dei focus tematici del 2024 ovvero il 15 ottobre l'upskilling e reskilling ehm il 16 ottobre eh adult learning as a way out of poverty quindi un come ehm strumento per per combattere la povertà e poi il 17 ottobre invece è la giornata dedicata al tema della sostenibilità eh quindi tre appuntamenti online da cui potete partecipare eh eh con dal con il link e gli strumenti per partecipare li trovate online sulla piattaforma epale il giorno 15 ottobre eh c'è anche l'evento in presenza che anche noi organizzeremo e del quale eh anche eh per avere maggiori informazioni anche insomma saranno distribuite sempre sul sito di Erasmus e gli altri canali dell'agenzia dunque spero di avervi convinto per chi non la conoscesse a discrivervi a partecipare a conoscere questa piattaforma grazie Sì grazie mille Martina benissimo e abbiamo fatto anche questo questa visita guidata dentro la piattaforma epale e procediamo con il programma e penso che sia pronta la collega Giada Vizza eh sempre dell'unità ed settore chiave 1 eccomi per i quality standard della qualità sì condivido subito la mia presentazione un attimo solo datemi conferma se la vedete sì eccola ok perché io ok va bene la vediamo ecco perfetto adesso anche in modalità presentazione perfetto ok allora in questa presentazione si parlerà dei criteri di valutazione e degli Erasmus Quality Standards allora eh per prima cosa quando si mh si 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 vengono 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 fatti due tipi diversi di valutazione ossia la valutazione formale e la valutazione qualitativa la valutazione formale viene fatta da noi dall'agenzia nazionale e consiste nel verificare se la candidatura è stata presentata correttamente quindi si si anche a verificare quella che è la la dichiarazione d'onore che è stata allegata per quel che riguarda gli enti che si applicano come enti individuali appunto del rappresentante legale e mentre invece nel caso di consorzio la firma del coordinatore di consorzio nei casi di consorzio inoltre vi deve essere anche presente l'elenco dei membri consorziati con l'allegazione anche dell'accesso a un form in cui essenzialmente il membro consorziato va a riconoscere la figura del coordinatore di consorzio che è colui che poi avrà i rapporti con l'agenzia nazionale e che appunto si occuperà della gestione della sovvenzione importante è che quando si allega la dichiarazione d'onore sia apposta la firma in formato digitale CADES valida o anche autografa con timbro è anche ottimo verificare che il form ID della candidatura presentata sommittata sia lo stesso di quello presente nella dichiarazione d'onore perché può capitare che prima di sommittare una si creano più candidature e magari si scarichi la dichiarazione d'onore inerente a una diversa candidatura perché comunque poi come dire ci facilita il lavoro il form ID è praticamente un codice alfarum medico che inizierà con K120 trattino un mix di lettere e numeri poi c'è la valutazione inoltre anche valutazione formale ecco bisogna presentare in questo caso un piano Erasmus che sia come dire autentico originale che è stato redatto dal ente beneficiario perché comunque il rappresentante legale se ne assume una responsabilità non deve essere qualcosa che è stato copiato da qualcun altro non bisogna nemmeno pagare qualcun altro un'altra organizzazione un'agenzia che scrive il progetto al posto vostro questo assolutamente no valutazione qualitativa è una valutazione che è eseguita da valutatori esterni all'agenzia nazionale e che rimangono in forma anonima tali valutatori andranno a come dire appunto valutare scusate ripetersi senza sinonimi ma comunque vanno a valutare attraverso dei tre criteri come in sé proprio il progetto ok quindi quali sono questi criteri pertinenza qualità dell'elaborazione del progetto e qualità del follow up su un massimale di 100 punti affinché la vostra candidatura passi la valutazione qualitativa bisogna ottenere almeno 60 punti però ciò che è importante è che bisogna ottenere la metà dei punti di ogni criterio quindi la pertinenza sono 20 punti massimo la qualità dell'elaborazione del progetto sono 50 punti la qualità del follow up sono 30 se per esempio voi ottenete 70 che quindi sono più di 60 ma per esempio in pertinenza avete ottenuto 9 voi non passate quindi è importante appunto ottenere la metà dei punti in ogni criterio ma che cose sono questi criteri allora la pertinenza si va a il valutatore va a valutare quanto la vostra organizzazione sia inerente attinente al settore educazione degli adulti quindi appunto se erogate corsi di formazione per adulti poi inoltre si va a valutare se appunto il vostro ente quanto il progetto è attinente ai valori della comunità europea quindi la libertà la la preservanza dei diritti umani la lotta alla discriminazione eccetera poi cos'altro si va a vedere se coinvolge il vostro ente coinvolge fewer opportunities e comunque se il vostro progetto è pertinente agli obiettivi del piano Erasmus che comunque li rivedremo dopo e poi la qualità dell'elaborazione del progetto invece è appunto il criterio più abbondante e si va a valutare in sé proprio il progetto quali obiettivi sta proseguendo la vostra organizzazione quali attività di mobilità sono stati decisi di attuare per poterli realizzare poi inoltre questi questi attività sono corredate da un chiaro piano di lavoro le attività prevedono comunque pratiche di educazione formazione digitale quindi si va a vedere questa parte qui nella qualità del follow up invece si va a vedere quali sono se l'applicante ha individuato i ruoli di coloro che si andranno a occupare della gestione del progetto poi anche si va a vedere come voi vorrete integrare i risultati delle mobilità all'interno del lavoro ordinario della vostra organizzazione si andrà a vedere anche a valutare come si intende disseminare il progetto sia a livello locale nazionale a livello europeo e come si intende sponsorizzare la sovvenzione data dalla comunità europea andando avanti quando poi voi andate questa è la parte che vi farà vedere il mio collega più avanti dell'application form comunque c'è una sezione in cui si parla dell'erasmus quality standards in cui c'è tutto l'elenco in cui adesso non li vedremo comunque in cui vengono spiegati che cosa sono punto per punto comunque voi dovete leggerle attentamente e appunto spuntare le caselle ovviamente nei casi di consorzio ciò si estende anche ai mervi consorziati e che cosa servono questi quality questi erasmus quality standards servono innanzitutto a garantire che tutti i partecipanti alle mobilità quindi staff e discenti abbiano vivano una buona esperienza di mobilità quindi che comunque vengano organizzati con alcuni standards e poi che appunto le organizzazioni che ricevono le sovvenzioni hanno come obiettivo appunto il perseguimento degli obiettivi del piano erasmus ecco come abbiamo detto prima quando si spuntano le caselle bisogna stare molto attenti leggere tutto quanto perché comunque si se ne assume la responsabilità allora gli erasmus quality standards vengono divisi in quattro macro aree che sono principi fondamentali buona gestione delle attività di mobilità fornire qualità e supporto ai partecipanti condivisione dei risultati e delle conoscenze del programma allora i principi fondamentali o anche le dimensioni orizzontali sono quelle di cui parlava prima la dottoressa Venturi ovvero l'inclusione e la diversità quindi coinvolgere persone da contesti sociali economici politici indifferenti sostenibilità e responsabilità ambientale quindi cercare di promuovere un nuovo modo di pensare e di rapportarsi all'ambiente quindi si riprende la tematica green l'educazione digitale quindi affiancare ai metodi di educazione tradizionale quelli digitali e partecipazione attiva alla rete dell'organizzazione Erasmus e cercare di promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica promuovere un nuovo modo di pensare che sia basato su un'interculturalità ora invece si parla dell'altra area ovvero la buona gestione delle attività di mobilità tutti questi punti comunque sono spiegati molto nel dettaglio nell'application form innanzitutto i core task questi sono importantissimi che cosa sono questi core task sono quei compiti principali che devono sempre rimanere in capo all'organizzazione beneficiaria quali sono sono la gestione finanziaria dei fondi del programma il contatto con noi quindi con l'agenzia nazionale la renti contazione delle attività sulle piattaforme messe a disposizione dalla CE poi tutte le decisioni che vanno a influire sul progetto quindi i tipi di attività la durata le hosting partner eccetera perché ho detto che devono rimanere in capo all'organizzazione beneficiaria perché come da guida le organizzazioni si possono avvalere di agenzie di consulenza o assistenza che li aiutino nella nella gestione del progetto come può essere ad esempio un'agenzia di viaggio ovviamente queste sono chiamate organizzazioni di supporto vi deve essere un accordo formale redatto tra voi e appunto loro in cui vengono esplicate punto per punto le attività che si vengono richieste un eventuale pagamento che può essere anche comunque volontario e poi come dire le casistiche in cui in caso di mancata come dire attuazione dei compiti previsti ma ovviamente si sta parlando di non si sta parlando dei core task perché quelli là devono rimanere sempre in capo a voi appunto se vi sono queste organizzazioni di sostegno vi deve essere trasparenza e responsabilità da parte vostra poi altri quality stand sono i contributi a carico dei partecipanti ossia l'ente beneficiario potrà chiedere ai propri partecipanti alle mobilità un certo contributo per l'organizzazione delle attività stesse ovviamente questi contributi richiesti devono essere ben giustificati non devono essere sproporzionati e devono tener conto anche delle possibilità dei diversi partecipanti inoltre questi contributi non possono mai essere richiesti da organizzazioni di supporto poi vi è l'integrazione dei risultati delle attività di mobilità nel lavoro quotidiano dell'organizzazione poi sviluppare la capacità di lavorare di voi enti applicanti di lavorare a livello internazionale inoltre è richiesto aggiornare regolamente le aree di contazione delle attività sulle piattaforme che verranno messe a disposizione dalla comunità europea e utilizzare i feedback dei partecipanti alle mobilità per migliorarvi allora di questo ne abbiamo parlato ora invece l'altra macro area fornire qualità e supporto ai partecipanti perché e sono importanti perché comunque bisogna che garantiate certi livelli di mobilità innanzitutto dal punto di vista del viaggio dell'alloggio della sicurezza sociale domanda di visto è importante che i partecipanti in mobilità all'estero siano sempre al sicuro e bisogna rispettare la normativa sia quella italiana che quella del paese dove si andrà poi anche per quel che riguarda quali partecipanti dovranno partecipare alle mobilità bisogna che ci sia una procedura di selezione trasparente equa e inclusiva poi bisogna prepararli questi partecipanti sia dal punto di vista pratico e professionale ma anche culturale sapere come funzionano le cose nel paese dove si va perché magari in Italia si danno per scontate alcune cose all'estero non è così quindi anche per questo motivo bisogna garantire in alcune situazioni un mentore scusate quando il partecipante sarà all'estero presso le organizzazioni di accoglienza deve essere dato supporto ai partecipanti durante tutta l'attività devono sapere chi poter contattare sia nell'organizzazione beneficiaria che nell'organizzazione ospitante gli deve essere fornito un supporto linguistico a livello professionale e personale e in questo caso ricordiamoci anche dell'OLS ovvero dell'online linguistic support che è stata una piattaforma messa a disposizione dalla comunità europea in cui si trovano diverse lingue a diversi livelli poi bisogna definire quelli che saranno i risultati di apprendimento che ci si aspetta dal partecipante attraverso un contratto formale tra l'organizzazione beneficiaria e il partecipante oppure il gruppo come verranno valutati questi risultati come verranno riconosciuti con quale certificazione e poi comunque i risultati delle mobilità come verranno usate da voi per migliorarvi infine è importante condividere i risultati tutto ciò che fate cosa avete ottenuto sia all'interno della vostra stessa organizzazione perché condividerlo all'interno vi rende più forti sia a livello locale a livello nazionale e come intendete sponsorizzare i finanziamenti dell'Unione Europea poi nell'application form tutto ciò che leggerete dei quality standards e che io vi ho detto dovrete esplicare nel personale nella sezione Erasmus Plan Management qui è buono prolungarsi con alcuni dettagli perché comunque sarà anche questo valutato dal valutatore quindi è buono scrivere qualcosina in più anche perché in questo modo il valutatore potrà capire quanto siete allineati agli obiettivi del programma europeo quindi queste infatti sono tutte le sezioni la parte 1 la parte 2 la parte quarta ok quindi io ho finito questi sono tutti i contatti a cui scriverci che è la mail l'accreditamento edel.it e gli orari di telefono poi ci sono anche diversi link per social quindi se volete seguirci così vi potete anche fare più un'idea di come impostarvi io con questo ho finito quindi vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola al collega Francesco Del Brocco grazie sì salve dottoressa Venturi salve a tutti i partecipanti io sono Francesco Del Brocco dell'agenzia Erasmus Plus Indire e in conclusione tra virgolette insomma per come dire riassumere tutti quelli che sono gli argomenti di cui le colleghe hanno insomma in maniera abbastanza chiara abbastanza come dire che hanno avuto modo insomma di nucleare nella loro presentazione andremo a vedere la parte tra virgolette tecnica quindi procedo diciamo così a illustrarvi quelli che sono i dettagli relativamente a come procediamo tecnicamente diciamo così alla presentazione del nostro web form allora quindi come abbiamo detto questa sezione particolare insomma del webinar ci porterà a vedere come presentare una candidatura per l'accreditamento in gergo tecnico diciamo web form ma in realtà è semplicemente un modo appunto per accedere per inoltrare a noi diciamo direttamente la richiesta di accreditamento ora per procedere diciamo così a qualsiasi possibilità insomma per entrare all'interno diciamo di presentare la nostra candidatura come per ogni diciamo altro processo abbiamo bisogno di alcuni strumenti fondamentali in particolare la possibilità diciamo di presentare una candidatura ci viene data dopo che abbiamo insomma dopo aver creato diciamo dopo avendo a disposizione un account e un login questa è sempre la base allora è molto importante ci saranno dei temi ricorrenti all'interno di questa sezione di questa presentazione e questo è uno di quelli l'altro lo vedremo tra poco di base siccome parliamo una platea diciamo molto ampia alcuni insomma dei nostri di chi è intervenuto a seguire questo webinar avrà già avuto modo diciamo di partecipare a precedenti campagne eccetera e progetti quindi chi è già in possesso di un account e login questo è molto importante diciamo avrà modo di utilizzare il suo precedente account e le sue credenziali appunto rimarranno invariate nella slide potete notare insomma sulla sinistra la maschera per poter accedere fondamentalmente alla registrazione chi invece non ha mai avuto modo diciamo il piacere di partecipare a questo tipo di procedura avrà necessità di creare questo account la cosa molto importante che ci tengo subito a sottolineare ed è una casistica che come dire spero chi ci ascolta appunto non avrà modo di affrontare ma lo dico il richiedente quindi colui il quale fisicamente si occupa della registrazione e della creazione dell'account e login deve essere cioè noi suggeriamo in maniera come dire abbastanza determinata che sia una persona interna all'organizzazione cioè una persona fondamentalmente in capo all'organizzazione che sia lì insomma di fiducia diciamo così che possa avere come dire che possa custodire quelle che sono le informazioni di login infatti non lo dice la parola stessa insomma diciamo sono le credenziali di accesso questo è un problema che come dire ognuno di noi ha riscontrato nella propria vita su qualsiasi portale su qualsiasi appunto portale online sul quale poi ci troviamo a fare l'accesso non avendo le credenziali insomma questo di solito diventa un grosso problema le organizzazioni in questo caso noi suggeriamo quindi abbiamo detto che la persona faccia capo all'organizzazione che in sostanza la buona regola è che non abbia una disponibilità esclusiva di queste credenziali ma queste rimangano in capo all'ente all'azienda al cpa poi vedremo insomma chi vorrà accreditarsi e poi successivamente attivare dei progetti di mobilità parliamo in buona sostanza di un account istituzionale ok quindi eccoci qui diciamoci appare come dire in bella vista la pagina diciamo di accesso alla piattaforma l'Erasmus Plus and European Solidarity Corps questa è importante diciamo di base nella schermata home che potete vedere in questa sezione sottolineata dalla freccia abbiamo modo di registrarsi appunto o accedere ho voluto come dire introdurre subito questa schermata per un motivo molto semplice perché la piattaforma è appunto come recita il sottopancia l'unico punto di accesso al programma è molto importante appunto che come dire si abbia chiara la disposizione già delle icone e quant'altro insomma poi ci avrete modo diciamo di fare la sua conoscenza il terzo passo quindi dicevo che fondamentalmente sono molto importanti due cose parlavamo dell'account e login precedentemente quindi per sintetizzare insomma per chiarire fondamentalmente parliamo di un account online d'accesso come ripeto ognuno di noi ha sperimentato nella sua vita qui andiamo leggermente più sul tecnico parliamo dell'OID l'OID fondamentalmente è un codice alfanumerico col quale insomma chi poi avrà a che fare con noi come dire avrà modo di appunto doverlo conoscere e imparare perché l'OID quindi l'Organization ID è un codice identificativo univoco che serve a individuare l'organizzazione e tutti i suoi dati ai fini della partecipazione al programma Erasmus questo è fondamentale perché le organizzazioni che precedentemente hanno aderito al programma e ai progetti di mobilità possiedono un codice OID quindi non non deve essere effettuata un'altra registrazione ripeto siccome la platea insomma degli astanti è ampia sicuramente più di qualcuno ha sentito parlare dell'OID se invece se invece parlo in questo momento a chi dell'OID non ha mai sentito parlare fondamentalmente quindi partecipa la prima volta al programma a bontà sua deve creare il codice OID collegandosi al seguente sito che vedete nel sottopancia quindi è richiesto l'accesso all'account login ed eccoci qui sugli strumenti di cui sopra importanti i campi in rosso contrassegnati con l'asterisco appunto sono obbligatori ripeto sto parlando di un qualcosa che al momento può sembrare di impatto ma non è più e nemmeno diciamo di un processo di registrazione online a cui oggi siamo praticamente obbligati tutti seconda parte per fare qualsiasi cosa seconda parte diciamo così capitolo secondo della registrazione qui vi ho dato l'altro accesso lì vedete in alto a destra è già stato fatto l'accesso diciamo dal mio account però in basso cioè nella sezione a sinistra potete vedere ampliando il menu a tendina di organization potrete vedere il registro my organization quindi da lì ripeto possiamo procedere poi alla registrazione ora c'è un piccolo passaggio che come dire può risultare ostico e più parlo per esperienza personale per far poi saltare fuori quello che è il nostro form ID o comunque il codice della nostra candidatura ripeto siamo in dominio abbiamo fatto l'accesso a un account istituzionale abbiamo presentato diciamo la nostra candidatura dove la vedo domanda risposta per fare apparire diciamo così la candidatura adesso noi prima procederemo alla sezione opportunis quindi accediamo alle varie offerte del programma è fondamentale questa è la maschera diciamo in cui noi parliamo di apply e che poi per senso traslato dà il nome all'application form cioè di base qui noi inoltriamo già fisicamente la nostra candidatura infatti dopo aver fatto l'apply di base e poi a quel punto vedremo la creazione del progetto della richiesta di accreditamento del form ID quindi cliccando su apply in corrispondenza del campo attenzione perché lì come dire la maschera è molto carina insomma è corredata da foto e quant'altro però è molto 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 importante che come dire chi vuole appunto aderire ai programmi diciamo legati al nostro settore quindi abbiamo detto adulti clicchi su KA120 ADU ok la scadenza per questa call in generale per questo per poter appunto accedere è il come già stato detto dalle colleghe me lo rimarco è il primo ottobre 2024 ore 12 di Bruxelles attenzione perché sì l'accreditamento è un processo come dire lungo e quant'altro però come tutte le richieste online è vincolato la scadenza quindi attenzione ricordiamoci questa è una cosa che ricordiamo a chi poi è ritardatario quindi lo diciamo in tempi non sospetti come si diceva una volta ricordiamoci sempre di inoltrare la candidatura prima 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 del giorno prima di quello della scadenza piccola nota in calce quindi ogni specifico accreditamento copre una sola candidatura per settore quindi per inoltrare candidature per più di un settore occorre presentare una specifica richiesta per ciascuno tradotto in italiano significa fondamentalmente che in ogni sezione noi poi andremo a fare una specifica candidatura come potete vedere poi adesso ripeto vi invito appena avrete modo a prendere confidenza con la piattaforma in particolare a vedere poi le varie sottosezioni come vedete ci sono varie sezioni parliamo dell'accreditamento per adulti settore scuola però ripeto chi già ha avuto a che fare con noi poi lo saprà dunque dicevo quel giochino di prima per far apparire le nostre candidature clicchiamo poi una volta come dire fatta la registrazione e quant'altro clicchiamo su prima su applications che vedete nel menu a sinistra poi vedremo apparire nella sezione my application le proprie candidature quindi in questo caso vediamo una candidatura di prova siamo già dentro la maschera quindi abbiamo finito la prima parte della procedura di accesso e già siamo nelle sottosezioni di cui giustamente la dottoressa vi ha introdotto prima di base parliamo della prima sezione cioè il context è molto importante già qui ci dà delle basi delle pezze d'appoggio chiamiamole così cioè la guida al programma che vi invitiamo sempre ripeto comunicazione di servizio a tenere sempre a disposizione perché è chiarificatrice di molti dei dubbi che possono sorgere in tutte le fasi del progetto e quant'altro e poi la lista delle varie agenzie nazionali dunque qui capiamo l'importanza dell'OID cioè avere un OID ci permette siamo già nell'application form di entrare appunto all'interno della maschera nella sezione applicant organization cioè voi una volta avuto un OID potrete inserire l'OID e procedere con la richiesta quindi questo rende l'OID fondamentale necessario senza il quale appunto non è possibile procedere poi come vedrete adesso poi tratteremo la sezione dedicata alla lingua diciamo così dell'application form però di base ci sono sempre dei link che vi permettono se vi trovate un attimino in difficoltà di avere già delle risorse pronte e poi ripeto con la mia collega prima di me siamo a disposizione ovviamente per l'assistenza eccetera però è anche come dire importante conoscere la sezione del self solve program diciamo del programma che appunto permette di risolvere poi i problemi direttamente da qui siamo nella sezione context ha il primo accesso al web form quindi in questa particolare voce vi chiederà di inserire i codici d'agenzia come già le mie colleghe hanno avuto modo di dire prima di me noi siamo IT02 quindi nella sezione national agency nella sezione language used to fill the form ovviamente ripetiamo possiamo selezionare la lingua italiana ma l'application form rimarrà in inglese comunque più o meno quelli che gli inglesi appunto chiamano trigger ma campi da menu a tendina da compilare sono quelli che stiamo vedendo in questo momento sotto ci dà già una prima tipologia di scelta fondamentale quindi ci vogliamo come dire iscrivere vogliamo fare una candidatura come organizzazione individuale o come consorzio questa cosa diciamo così questa selezione è molto importante perché poi a cascata come dire se per esempio come dire andremo a selezionare consorzio avremo tutta un'altra serie di opzioni alternative ovviamente siamo già nella sezione background qui come vedete in inglese poi sempre è spiegata fondamentalmente sono spiegate le basi di ciò che occorre sapere per presentare una candidatura quindi non c'è da spaventarsi diciamo così se di primo acchitto può sembrare complesso ma in realtà il form è fatto come dire apposta per essere completato correttamente avendo come abbiamo detto tutti gli strumenti e tutte le informazioni necessarie quindi il mobility consortium come abbiamo avuto modo di trattare precedentemente quindi come consorzio di mobilità piuttosto che come abbiamo visto prima come organizzazione individuale vi chiederà ovviamente anche a che tipologia di organizzazione andate a fare capo e questo ovviamente ripeto qui nella slide ovviamente abbiamo una sezione limitata dell'ampio menu di scelta che potete intuire da come dire ripelogativo sulla destra in grigino scorrendo diciamo verso il basso andremo a vedere tutte le varie tipologie diciamo di enti che possono presentare la loro candidatura quello vediamo in inglese ma ovviamente conosciamo quel corrispettivo in italiano o come abbiamo detto come ha detto appunto la dottoressa Vizza prima di me l'importanza dell'Erasmus Plan cioè nell'application form c'è una sezione dedicata in cui fondamentalmente ci dovete parlare di voi cioè dovete introdurre diciamo così nel nella richiesta appunto di accreditamento quelle che sono le specifiche della vostra organizzazione quindi il programma anche qui insomma è sintetizzato tutto abbastanza bene quindi ciò che è importante sapere a livello di nozioni di base per quanto riguarda l'Erasmus Plan è che il vostro piano quindi come dire la richiesta di accreditamento deve far capo a un piano che colleghi le attività di mobilità con la necessità e gli obiettivi della vostra organizzazione come è stato detto precedentemente quindi come dire rispettare i famosi quality standard il piano Erasmus risponde a una specifica domanda quindi come verranno usati i fondi di relazione chiave 1 del programma dall'organizzazione da tutto lo staff ed i riscenti sia se prenderanno parte ai progetti di mobilità sia che non lo facciano questa è la domanda che vi dovete porre quando poi andrete a valutare il vostro piano Erasmus composto da tre parti come dire specifiche quindi obiettivi attività pianificazione management risorse quindi nella schermata in basso obiettivo 1 vi sarà chiesto di dare una descrizione degli obiettivi che in futuro si desidererà raggiungere il titolo il tempo per raggiungerlo eccetera ovviamente l'obiettivo quale tipologie di attività si andranno a fare e quale di standard di cui si è già trattato quindi è molto molto importante avere chiaro il progetto come lo diceva appunto la collega precedentemente giustissimamente deve essere per quanto possibile anzi al 100% farina del vostro sacco che è un'altra come dire tipologia di problematica che delle volte andiamo a affrontare cioè il piano e tutto ciò che concerne la vostra richiesta poi un domani di partecipare al programma è molto importante che sia qualcosa di sentito personale specifico e ovviamente autentico da parte dell'ente dunque nella sezione più in basso superata la parte appunto in cui ci parlate di voi accettati i valori dell'Unione Europea come l'articolo 21 appunto di inclusività e assenza totale di discriminazione accettiamo come dire i valori dell'Unione Europea arriviamo alla sezione degli annexis avrete modo come dire poi nel corso diciamo dopo l'accreditamento fatta la richiesta di mobilità di inviarci insomma svariata svariata quantità di carteggi e svariata quantità di documenti diciamo in questo specifico frangente è importante caricare appunto la DOO cioè la Declaration of Honor che è fondamentalmente come dire un documento nel quale si dichiara di riconoscersi di accettare quelli che sono come dire i valori la base del programma firmata ovviamente sempre insomma con tutti i crismi da rappresentante regale dell'ente come formato digitale o formato autografo ma comunque diciamo è l'accettazione di quelli che sono i termini e le condizioni dicevamo vogliamo fare un esempio di documenti rilevanti perché di quello si parla di base come per un cpia il piano triennale dell'offerta formativa per esempio diciamo tra i vari documenti ritenuti strategici in gergo tecnico comunque rilevanti per voi ora è molto importante quindi che ci sono alcune cose che ho avuto modo insomma riflettendo su questa presentazione di voler rimarcare preso testualmente dall'application form quindi per appunto inoltrare una candidatura e diventare come dire partner non a caso si parla di partner in questo progetto cioè si procede di pari passo abbiamo bisogno di un OIT questo l'abbiamo capito quindi dobbiamo riempire quello che all'apparenza è un semplice form come ce ne sono tanti altri per aderire insomma abbiamo detto a dei servizi online l'organizzazione appunto che partecipa deve avere appunto questo a particolare codici identificativi nell'atto pratico della compilazione il modulo di candidatura viene salvato automaticamente dal sistema quindi non andiamo poi come dire a cliccare nuovamente su apply o come dire generare creare nuove e ridondanti candidature e progetti è capitato anche questo quindi mi raccomando di non farlo io ho concluso il mio intervento e ripasso la parola alla dottoressa Venturi grazie mille benissimo Francesco e niente a questo punto grazie grazie mille a tutti i colleghi fra l'altro appunto avete avuto modo di conoscere magari qualcuno che già conosceva l'ospicio altri colleghi queste sono risorse che sono con noi dall'inizio dell'anno e quindi complimenti grazie per essere entrati così bene dentro a tutti i temi a tutti gli argomenti averli illustrati grazie anche i colleghi dell'ufficio eventi che ci supportano in questi infoday che diciamo noi facciamo online perché comunque in questo modo offriamo la possibilità a tutti da tutta Italia di collegarsi e insomma di interagire di fruirli ma appunto come è stato detto anche prima vi ricordo che ci sono anche poi durante l'anno una serie di eventi locali che potete trovare segnalati sempre sul nostro sito e seguendo i nostri social che possono essere di diverso tipo possono essere anche i piccoli infoday più mirati organizzati o in collaborazione o direttamente dai nostri dalla rete degli ambasciatori di cui abbiamo parlato prima ci sono anche quelle che sono chiamate in gergo TCA Transnational Cooperation Activities che sono eventi mirati in alcuni casi anche a nuovi partecipanti al programma per introdurli e per favorire insomma anche la ricerca di partner per progettazioni di diverso tipo insomma c'è tutto un assortimento di eventi a parte questo ecco scusate per ultimato a parte questi infoday online quindi vi invito appunto anche a tenere sott'occhio il sito e volevo solo rimarcare un attimo una cosa che ha detto anche in chiusura adesso Francesco in particolare appunto il riferimento alla candidatura genuina perché appunto insomma quello che è importante per noi quello che viene valutato anche poi dai nostri valutatori che sono comunque valutatori esterni esperti ma è davvero insomma più che la forma il veramente l'attinenza alla realtà e alla concretezza delle situazioni di ogni candidatura quindi diciamo per assurdo meglio una candidatura imperfetta magari ma che risponde che si vede che risponde a dei bisogni reali piuttosto che magari ecco altre più curate e impeccabili nella forma ma magari realizzati da esperti esterni che a volte anche a pagamento oppure tramite l'intelligenza artificiale ormai sappiamo insomma che non è difficile chiedere un supporto in questo senso fammi un progetto fa così però poi insomma al di là oltre agli strumenti tecnici ci fornisce la commissione per la rilevazione del plagio quindi delle candidature diciamo così riprese da altre o appunto insomma quello che è possibile insomma riconoscere sulle candidature magari scritte appunto dall'intelligenza artificiale che rimangono comunque più astratte più ruote allora adesso entriamo nel momento siamo fra l'altro anche in anticipo rispetto insomma ai tempi però bene perché comunque abbiamo tempo per le vostre domande funziona così al momento voi potete alzare la mano e chiedere la parola tramite il tasto reazioni che vedete sulla base sulla striscia nera alla base del video e di volta in volta vi verrà aperto il microfono così potete procedere a fare le vostre domande e poi vediamo insomma con i colleghi se rispondono uno a uno se ne prendiamo qualcuna insieme quindi iniziamo pure potete alzare la mano potete fare le vostre domande e chiedere approfondimenti e velocitazioni ecco esatto appunto vedete la manina buonasera chiedo la signora Marzia cortesemente di attivare il suo audio può parlare ok buongiorno a tutti forse è una domanda un po' scontata però vorrei chiedere se un consorzio già accreditato per il settore scuola sento una sovrapposizione non so volevo chiedere se un consorzio già accreditato per il settore scuola come è il caso del consorzio che coordiniamo con il mio istituto può chiedere anche l'accreditamento adulti noi abbiamo una scuola serale da molti anni e da quest'anno avremo il corso liceo made in italy serale che è uno dei pochissimi credo in Italia ecco quindi è compatibile questa cosa allora si può applicare perché nel vostro caso avete questo accreditamento nel settore scuola che è un settore diverso di educazione degli adulti i casi che all'interno dello stesso settore e all'interno della stessa call quindi in questo caso call 2024 sono permessi sono quando si ha un sovvenzionato un progetto di mobilità di breve durata K122 e quindi ci si può accreditare poi si può essere membri consorziati di due consorzi diversi e si può avere un accreditamento come coordinatore di consorzio e si può fare parte di un altro consorzio come membro di consorzio per ritornare alla sua domanda comunque si lo potete fare proprio perché sono due settori diversi perfetto quindi essendo che avevamo in animo anche un K220 anche quello è compatibile anche questa candidatura grazie infinita a lei però la vostra scuola ecco qui che ci ricolleghiamo alla valutazione formale la vostra scuola eroga dei corsi serali si ha un corso serale allora in questo caso va bene si si grazie buonasera chiedo a Claudia Lanteri che può aprire il suo microfono buongiorno volevo capire se ho capito bene allora nel campo dei giovani è possibile organizzare degli new fish change con giovani che siano appartenenti a tutte le categorie quindi occupati non occupati ecco universitari o altro nel campo degli adulti se ho capito bene invece c'è la possibilità di fare della formazione e degli scambi all'estero solo per adulti che siano già inseriti in un programma di formazione di educazione non formale ho capito bene sì salve allora sì il settore educazione degli adulti è rivolto a tutti coloro che sono iscritti ad un corso formale informale non formale per gli adulti quindi ovviamente la platea di protagonisti che possono entrare a far parte del settore è ampia nello specifico se posso rivolgermi con una domanda di che cosa si occupa l'organizzazione lente insomma che proporre che proporrebbe l'organizzazione appunto si occupa in questo in questo momento si è preoccupata di formazione di adulti però nel campo di progetti di cooperazione quindi 220 o 210 cioè progetti di questo tipo e però appunto erano soprattutto locali perché appunto come sapete queste cose prevedono pochi scambi e molto di più azioni locali speravo appunto ci fosse questa possibilità per gli adulti di fare informazione ma ecco quindi se se posso dare una dare un suggerimento insomma magari voi che siete all'interno potete magari portare queste 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 richieste perché chiaramente ci piacerebbe anche poter fare formazione mandare all'estero degli adulti che vogliono riqualificarsi senza essere in un programma locale perché questo era un po' la richiesta allora no è necessario essere iscritti in un programma io non so che cosa intenda nella fattispecie col locale però è necessario che l'organizzazione che si candida eroghi comunque un tipo di corso di formazione sia formale non formale o informale per adulti ovviamente rivolta ad un pubblico adulto detto questo l'azione chiave 1 nasce proprio come con l'intento dell'internazionalizzazione dell'ente locale quindi dell'ente di invio noi lo chiamiamo che è quello con sede nel nostro caso in Italia mandando i partecipanti mandando quindi sia lo staff che i discenti adulti presso un paese dell'Unione Europea che fa parte ovviamente del programma Erasmus e con la possibilità diciamo diverse possibilità di fare per esempio corsi di formazione per lo staff oppure job shadowing quindi c'è la possibilità di scambio in questo senso cioè vedere una realtà all'estero che faccia più o meno anche la stessa cosa ma vedendola insomma comparandoci con i nostri diciamo con cittadini europei ormai quindi però è necessario penso che diciamo l'ambito educazione degli adulti sia già il target sia quello perché se già fate dei partenariati diciamo nel settore ho capito bene fate dei partenariati nel settore educazione sì certo però non abbiamo dei corsi di formazione diciamo istituzionali o non è che abbiamo una scuola che fa scuola di lingue o scuola di formazione facciamo dei corsi di formazione però dei corsi di formazione di una settimana facciamo del mentoring facciamo dei training facciamo delle cose previste quindi potrebbe rientrare nella tipologia informale volendo non formale sì però la vedo la vedo difficile nel senso che chiaramente per quanto ho capito sono più cose sono più progetti dedicati a chi ha già una scuola di formazione informale i nostri vet o i nostri le nostre scuole di formazioni serali e che poi può quello dipende dalla tipologia dell'ente è ovvio che se si tratta di un'associazione non è che per forza debba avere un corso di lingua inglese affinché sia considerata elegibile nel settore educazione degli adulti cioè dipende anche dalla natura dell'ente per questo io dicevo prima di una platea molto ampia perché dipende proprio qual è la mission gli obiettivi dell'ente che cosa fa e qual è quindi noi abbiamo come obiettivo nello statuto la formazione degli adulti non abbiamo però una non facciamo formazione continuativa cioè tutte le settimane tutti i mesi abbiamo dei progetti dedicati alla formazione bene ah ok benissimo sì eccomi infatti mi permetto di inserirmi un attimo assolutamente sì ora poi magari se ci sono casi un pochino più specifici ci possiamo relazionare ecco anche in separata sede però già prima volevo insomma appunto un po' fare degli chiarimenti allora diciamo che il programma Erasmus è davvero il programma ombrello e quindi copre tendenzialmente tantissimi settori appunto come abbiamo visto dalla scuola all'università all'educazione degli adulti alla formazione professionale ai giovani ecco si tratta poi di individuare il settore corretto al momento di fare la domanda e quindi volevo anche qua diciamo così già mettere in chiaro e fugare insomma cercare di farvi evitare un tranello nel senso che quello che conta poi è il gruppo target il destinatario finale dell'azione educativa appunto si deve sempre trattare di formazione di educazione e se il destinatario finale sono degli adulti poi non è il riferimento tanto all'età perché i nostri beneficiari finali possono andare da un'età di 16 anni nel cpia a 100 e più anni insomma però si tratta di persone che sono uscite dal corso classico di formazione quindi non scuola e non università ma ci sono rientrate in qualche modo sia nell'educazione formale appunto quelli che possono essere i cpia oppure i forzi serali oppure nel appunto tutto quello che è anche il non formale e il niformale quindi anche occasioni di formazione più brevi più insomma ecco quello poi si tratta di vedere quindi non applicano nel nostro settore gli insegnanti della scuola diciamo del mattino perché puntualmente invece ad ogni call ad ogni scadenza ci troviamo un certo numero di scuole che purtroppo commettono questo errore perché dice l'insegnante è un adulto quindi il settore è adulti e purtroppo queste candidature poi vengono scartate e non possono nemmeno essere riposizionate nel settore giusto bisogna aspettare la scadenza successiva comeppure bisogna porre attenzione alla distinzione del settore educazione fra settore educazione degli adulti e formazione professionale qui si apre tutto un altro discorso che però in estrema sintesi educazione degli adulti è la formazione della persona a 360 gradi mentre la formazione professionale sono gli skill più le competenze più proprio appunto legate alla vita lavorativa alla formazione professionale ecco però diciamo che il concetto proprio a monte è che comunque il programma appunto offre davvero tantissime possibilità si tratta di trovare la strada giusta e su questo magari se avete domande specifiche poi ovviamente poi le chiariamo adesso ma poi le possiamo anche vedere caso per caso perché a volte si tratta davvero di sfumature ok allora adesso possiamo dare la parola alla signora Francesca che ha alzato la mano può attivare il suo microfono sì buonasera allora la mia domanda è relativa alla composizione degli eventuali consorsi ossia se i partner possono essere sia pubblici che privati in un insieme e se anche i vari consorziati devono avere un OID e eventualmente se c'è diciamo uno sbarramento per eventuali associazioni che non sono iscritte al RUNZ o se questa cosa è il RUNZ quindi di antico del terzo settore o se proprio questa cosa non c'entra niente grazie ma se dici mi ha risposto salve buonasera sono Doniale Carboncini allora sì non ci sono sbarramenti per quanto riguarda gli enti consorziati ovviamente come dicevano prima i colleghi nel consorzio ci deve essere comunque una comunione di intenti per raggiungere gli obiettivi anche nel caso appunto poi non ci sia un codice OID si possono comunque inserire con un altro tipo di registrazione poi magari lo trovate dentro la piattaforma e bene questa è la cosa più importante nel senso che comunque non c'è nessun limite ovviamente quello che l'ente consorziato poi ecco debba con voi cercare di raggiungere l'obiettivo che siete posti in candidatura tutto qua ok allora adesso diamo la parola alla signora Mara può attivare o no io parlo per conto della Uni3 Università delle tre età che fa educazione per adulti da 30 anni in tutta Italia da poco ho partecipato al Consiglio Nazionale c'è molto interesse a poter essere attivi nell'ambito dei progetti europei quindi alla luce di quello che avete detto volevo chiedervi se noi siccome abbiamo dei coordinamenti regionali potremmo consorziarci con varie sedi tutte quante scritte al RUNS stabilire un coordinatore fra di noi e poi individuare un tema sul quale puoi presentare un nostro progetto sì allora dovremmo diciamo vedere da più vicino la relazione che c'è tra in caso l'ente coordinatore individuato e poi i consorziati cioè voi intendete comunque qualcosa che sia un ombrello dove c'è un coordinatore e poi i consorziati ma questi consorziati che tipo di rapporto avreste? noi siamo tutte associazioni che fanno parte dell'associazione nazionale cioè ognuna di noi è singolarmente registrata il RUNS e l'associazione nazionale però ognuno ha un suo statuto giusto ha una sua indipendenza autonomia diciamo identità sì ha una sua identità perfetto allora sì si può fare tranquillamente così almeno bypassiamo il problema perché c'è molto desiderio di partecipare in quanto io con la mia sede sono 30 anni che lavoro vengo dal campo scolastico ho fatto altri progetti Erasmus con altri partner però non li ho mai fatti diciamo all'interno dell'Uni3 e quindi adesso mi chiedevano tutti come era possibile attivarsi diciamo come dire fare in modo che ci sia cioè tutte le sedi che poi a Balanga arrivano lì e fanno un progetto mi sembra enorme poi non credo che ce la faranno se invece riusciamo a stabilire un contatto fra le sedi più motivate su base regionale penso che questo diventa più produttivo perché magari una sede assolutamente per la sostenibilità noi principalmente l'obiettivo nostro adesso è quello di relazionare le età fra loro non ci chiamiamo più della terza età ma delle tre età quindi il nostro diciamo obiettivo primario è quello di provvedere un'educazione per adulti ricorrente però che non metta diciamo la terza età in un angolo ma dialoghi con le altre età e ci sia uno scambio di esperienze quindi tutto quello che riguarda digitale nuove competenze o le esperienze accumulate da noi più adulti possano essere scambiate sì l'importante è avere degli obiettivi ovviamente condivisi perché quando si parla di consorzio come diceva la collega giustamente dobbiamo avere degli obiettivi che vengono condivisi ovviamente da tutti i partecipanti al consorzio e poi lei ha detto una cosa anche molto importante il consorzio è diciamo lo strumento attraverso cui magari coinvolgere diciamo più realtà anche più piccine che fanno parte anche dello stesso territorio il consorzio si può ovviamente sviluppare a livello regionale si può sviluppare per pertinenza di diciamo materia trattata a livello nazionale anche quindi in questo caso benvenga perché ci sarebbe poi diciamo la formazione di una rete territoriale importante quindi sì benvenga l'importante è la stesuta del piano Erasmus è molto importante perché ribadiamo un concetto il consorzio deve cioè dalla candidatura del consorzio si deve denotare anche la capacità del coordinatore di consorzio di far fronte e quindi di gestire il piano che poi contiene quei obiettivi che bisogna tutti insieme a livello di consorzio raggiungere ecco quindi particolare attenzione va data ovviamente alla stesura proprio anche della candidatura e del piano Erasmus è molto importante come sapete ovviamente quando ci si candida per l'accreditamento la candidatura viene data dal coordinatore di consorzio e se questa poi sia formalmente che qualitativamente viene recepita come buona solo successivamente poi potranno essere presentati gli enti consorziati ok quindi è vero bisogna avere un'idea diciamo di quelli che sono gli enti consorziati e quindi che vogliamo far entrare all'interno del consorzio ciò non toglie che poi anche nel corso del tempo poi questi vengano modificati aumentati diminuiti noi si spera sempre di aumentarli ovviamente nelle migliori delle ipotesi però ecco insomma giusto per avere una un quadro della situazione quindi bene ben venga ben venga assolutamente sì direi magari guardi le posso chiedere già fin d'ora non so se sarà possibile visto che siete disponibili avete detto che si faranno degli incontri regionali territoriali se fosse possibile avere io adesso riporterò questa procedura dell'accreditamento eccetera ma se fosse possibile magari riunire dei coordinamenti e dare delle indicazioni così specifiche magari con le slide o se magari posso avere le slide le slide saranno a disposizione sul sito ci sarà sia la registrazione di questa giornata di formazione sia le slide che abbiamo utilizzato tuttavia noi ci rendiamo disponibili anche telefonicamente via mail quindi noi caldeggiamo sempre se avete qualche dubbio meglio una mail o una telefonata in più e quindi un confronto anche con noi così per avere le idee chiare per arrivare comunque al momento della candidatura in maniera insomma pronta ecco quindi qualsiasi dubbio ovviamente tutto questo materiale sarà a vostra disposizione però non esitate a contattarci anche ok? va bene siamo a disposizione grazie grazie molto eccomi mi inserisco di nuovo perché appunto avendo parlato di incontri regionali è qualcosa che insomma ecco magari si svolge nel corso di tutto l'anno ora ragionevolmente siamo già oltre la metà di giugno luglio agosto insomma appunto sono mesi un po' fermi e quindi considerato che la scadenza quest'anno appunto è anche un po' anticipata rispetto agli anni scorsi quindi al primo di ottobre non so se ci sarà già qualcosa di disponibile cioè nel senso ci sono già anche delle attività per esempio nel mese di settembre ma quelle sono già state diciamo i partecipanti sono già stati assegnati ecco quindi anche più sul lungo periodo però assolutamente appunto come diceva la collega e come è stato detto finora insomma siamo siamo a disposizione l'agenzia che è sempre tranne nella settimana di chiusura che sarà la settimana di ferragosto per il resto siamo e assolutamente tutti i materiali di questo infoday rimarranno disponibili rimarranno pubblicamente disponibili le registrazioni e le slide e quant'altro grazie allora diamo la parola al signor Domingo buonasera e parlerà la mia collega Anna Maria buonasera e solo una domanda il coordinatore chi fa il coordinatore del consorzio deve essere per forza un no profit o può essere anche un'entità tipo un'impresa allora può essere anche un'impresa l'importante è che però eroghi formazione per gli adulti formale non formale e informale l'importante è che non siano professionalizzanti ecco perché esatto questo c'era chiaro esatto sono professionalizzanti mi perdoni no non sono professionalizzanti sono proprio noi utilizziamo una metodologia teatrale nella quale facciamo appunto formazione degli adulti mirati all'inclusione sociale quindi lavoriamo con delle persone che hanno appunto problematiche di salute mentale e di patologia duale e quindi questo è quello che ci interessa sì benissimo bene bene grazie si figuri adesso vai tu Tatiana sì scusate allora diamo la parola la signora Anna prego può attivare il suo microfono buonasera a tutti e a tutte grazie mille per tutte le informazioni di oggi ho una domanda sono dell'associazione EduVita a Lecce facciamo le attività e i corsi non formali per gli adulti over 50 e abbiamo già partecipato negli progetti K2 dove in alcune attività abbiamo inviato i nostri studenti per per il training dai nostri partner e abbiamo anche ospitato K1 una due volte dai nostri partner polacchi e spagnoli appunto i loro studenti adulti volevo chiedere per la candidatura possiamo già includere i partner nostri di fiducia da cui vogliamo inviare i nostri studenti per esempio in Polonia e in Spagna sapendo che loro ci avrebbero ospitato oppure dobbiamo scrivere in generale solo allora il discorso è questo come dicevo prima chi mi aveva fatto la domanda per l'università delle tre età quando praticamente si presenta la candidatura di accreditamento si presenta fondamentalmente quello che è il piano Erasmus questo che cosa significa che voi come la collega Bizza ha spiegato dovrete implementare secondo gli standard di qualità quello che è il vostro progetto con diciamo gli obiettivi in che modo raggiungerete gli obiettivi chi viene coinvolto nel progetto eccetera 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 questa parte qui non implica però la specificità dell'organizzazione dell'hosting partner in pratica ok che vi ospiterà benvenga se avete le idee già chiare se avete già creato questo tipo di relazione e quindi i partenariati quelli che erano prima i partenariati possono poi diventare hosting partner ammesso che ovviamente siano in linea con gli obiettivi che volete raggiungere perché ricordatevi sempre le attività di mobilità sono lo strumento attraverso cui voi raggiungerete gli obiettivi posti all'interno del piano Erasmus ok il fatto di inserire poi diciamo l'hosting partner arriverà con la richiesta di budget che è un altro modulo di candidatura che si chiama il K121 e la richiesta di confinanziamento dove avrete la possibilità mi sentite mi sentite mi sento tutto scusate adesso si cosa è successo al computer ecco ci sono si 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 sente si sente ecco quindi no questa richiesta arriverà poi con il modulo K121 che è la richiesta proprio di finanziamento nella prima parte quindi in quello che è il piano Erasmus non dovrete inserire è ovvio che se voi avete comunque le idee già così chiare anche nel lungo periodo perché ricordatevi l'accreditamento comunque è una progettazione a lungo termine e magari volete accennare a quelli che sono gli hosting partner perché ovviamente sono il mezzo attraverso cui raggiungere gli obiettivi anche all'interno del piano Erasmus perché no assolutamente però ecco non avrete proprio modo di inserire quello che è lo hosting partner nel modulo per intenderci perfetto e il passo successivo ho capito non è esattamente ok grazie mille a lei allora diamo la parola alla signora Carmen che può aprire il microfono forse non ci sente signora Carmen ecco ok vi sento vi sento adesso voi mi sentite grazie buongiorno buongiorno buon pomeriggio a tutti allora io avrei due domande la prima praticamente la mia è una scuola superiore di secondo grado accreditata sia nel settore vet che nel settore scuola nel vet siamo coordinatori e nel settore scuola siamo partner di un consorzio mi chiedevo se potevamo richiedere l'accreditamento anche per il settore eda in quanto abbiamo corsi serali come è stata insomma è stata qualcuno nella prima domanda aveva già posto questo quesito in più volevamo incominciare anche a lavorare con i genitori dei nostri ragazzi su alcune tematiche non so se questo rientra volevo capire un attimo se potesse rientrare nel settore educazione degli adulti guardi come abbiamo già detto prima essendo due settori separati lei si può candidare quindi poi anche coinvolgere lei cosa mi ha detto che tipo di erogate corsi serali sì abbiamo praticamente corsi normali scuola secondaria di secondo grado ma anche corsi serali nel settore professionale sì potete applicarvi senza alcun problema rispettati i requisiti formali ok e possiamo inserire tra i punti tra gli obiettivi da raggiungere anche corsi di formazione con le famiglie con i genitori dei nostri ragazzi sì sì dettagliandoli bene cosa volete raggiungere e farà parte poi di quello che sarà il vostro piano Erasmus però possiamo candidarci come coordinatore o come partner perché siamo già coordinatore di un consorzio VET sono due settori separati quindi potete quindi potete proprio applicarvi come coordinatore di consorzio ok e la seconda grazie la seconda domanda era riferita al bando per gli ambasciatori Eda io sono anche ambasciatore per Erasmus però per la scuola non è questa la sede ecco non so se sarà riaperto so che c'è stato c'è stata la selezione sì ora appunto su questo vabbè non è l'oggetto di questo infoday comunque sì ci sono le due reti di ambasciatori scuola e di ambasciatori educazione degli adulti per quanto riguarda il settore educazione degli adulti direi che nell'immediato non è prevista la riapertura del bando non escludo poi insomma questi ambasciatori rimarranno in carica fino al al 2027 non lo so quello che magari vorremmo fare siccome ci sono tre regioni in pratica che non sono coperte al momento che sono la Liguria poi la Valle d'Aosta e il Molise stiamo pensando di riaprire un bando ma specifico ecco su regionale per quelle regioni va bene vorrei un attimo riprendere la domanda della signora Carmen ecco dato che comunque il settore VET eroga dei corsi molto professionalizzanti mentre invece il settore educazione degli adulti corsi formali non formali informali per adulti ecco c'è il rischio che comunque ci sia un certo come dire incompatibilità tra i due settori quindi se voi operate in un settore ecco va specificato bene come potete rientrare nel settore educazione degli adulti inoltre anche la presentazione di quello che sarà il vostro piano Erasmus ecco noi comunque abbiamo uno strumento che ci permette di confrontare le diverse candidature dal punto di vista progettuale quindi questo ok va bene la ringrazio a lei diamo la parola a Silvio può attivare il suo microfono prego sì buon pomeriggio grazie intanto per tutte le indicazioni ecco io parlo a nome per conto di un ente di terzo settore che è iscritto in Arunz noi abbiamo già partecipato ad alcuni progetti Erasmus in partenariato con le scuole mettendo in mobilità dei docenti chiaramente un altro settore però all'interno dello statuto abbiamo proprio come scopo come finalità educazione non formale anche degli adulti lungo tutto il corso della vita e la nostra progettazione si muove in questa direzione ora se non ho capito male durante la presentazione è stato detto che bisogna avere due anni di esperienza nel settore per prendere parte a questi e a queste opportunità di formazione sì bisogna avere due anni di esperienza nel settore per potersi applicare nell'accreditamento K120 io mi chiedevo se per esempio queste attività progettuali con i docenti con gli adulti possono fungere da diciamo esperienza maturata esperienza esperienza nel settore non esperienza maturata nell'ambito del programma Erasmus per poter richiedere diciamo un accreditamento comunque svolgere attività Erasmus con gli adulti sì esatto sì da quanti anni opera l'associazione di cui è portavoce in questo momento dal 2017 ci siamo perché sono più di due anni quindi devo stare tranquillo ecco poi le varie attività che finora si sono concretizzate come le dicevo vanno dalla progettazione sociale ad alcuni progetti Erasmus come partner ma non specifici nel settore vorrei noi stiamo parlando allora noi intendiamo con due anni di esperienza per potersi applicare come accreditamento come due anni di esperienza della vostra associazione nel settore nel settore che quindi erogate dei corsi di formazione formale non formale informale per gli scianti adulti quello che lei sta dicendo invece è l'esperienza che ha questa organizzazione proprio nell'ambito di progetti questo non c'entra niente noi stiamo parlando soltanto dell'esperienza con i corsi di formazione che vengono erogati quindi se dal 2017 cosa intende dal 2017 che operate in questo settore o dal 2017 che state come dire avete a che fare con progetti in ambito Erasmus lei che cosa intende se stiamo dal 2017 i progetti Erasmus li abbiamo attivati intorno al 2022 con le scuole ma dato che voi esistete dal 2017 che nel vostro statuto nello statuto di quest'ente c'è scritto che le erogate allora va bene grazie grazie infinita a lei cioè che poi dal 2017 magari prima non c'era nello statuto che erogate corsi di formazione ma che comunque da due anni con un'eventuale modifica dello statuto l'avete inserita questa cosa va bene qualcuno vuole fare altre domande ecco qui la signora Caterina può parlare può aprire il microfono signora Caterina può aprire il microfono voi la sentite? non riesco a sentirla no non si riesce a sentire signora Caterina il microfono risulta attivo però attivo sì dicevo il microfono risulta attivo ma non la sentiamo sì magari può scrivere sul box domande e risposta anche se c'è un problema di microfono non so adesso vediamo se riusciamo a recuperarla non so se nel frattempo invece ci sono altre domande signora Caterina si è sparita non c'è c'è qualcun altro che vuole fare delle domande? sì buongiorno anzi buonasera mi sentite? sì io mi sono collegato solamente da poco volevo sapere ma è prevista la registrazione dell'incontro? sì verranno messi verranno caricati insieme anche alle presentazioni sulla pagina agenzia nazionale Erasmus Plus risorse e strumenti nella sezione educazione degli adulti ok grazie a lei scusate volevo chiedere due cose che sono state chieste nelle discussioni ma non so se avete letto allora volevo sapere due cose intanto per giustificare allora intanto avete parlato dei consulenti esterni che possono anche che rientrano nello staff quindi volevo avere conferma quindi non so io ho capito così ma forse mi sbaglio e poi per giustificare invece dell'eleggibilità delle persone con meno opportunità quali sono i documenti precisamente che devono essere forniti poi in sede di bilancio allora salve allora senta come consulente ora come consulente esterni si parlava del core diciamo delle attività fondamentali che dovete comunque voi tenere presso la vostra organizzazione quindi il consulente solitamente penso sia esterno perché sei interno quindi fa parte dello staff e quindi non è un diciamo un consulente che vi da mano per magari scrivere la candidatura ed è opportuno e ci vuole insomma anzi ci mancherebbe noi parlavamo dei consulenti esterni nel senso che comunque sono quelle tipo di associazioni o consulenti che vanno a fornire un tipo di servizio in questo caso noi parliamo di scrittura di candidatura che non è possibile mentre è possibile appoggiarvi ai consulenti esterni magari anche successivamente alla richiesta quando la vostra candidatura verrà approvata la richiesta del budget potrete magari appoggiarvi agenzie che vi danno la possibilità di sbrigare alcune diciamo pratiche un po' più diciamo burocratiche quindi dall'agenzia di viaggi che vi può assistere nell'assistenza nell'acquisto dei biglietti aeree o degli eventuali alloggi magari altre organizzazioni che appunto vi possono dare mare in questo senso a livello di logistico quello che diciamo presentazione era appunto di mantenere sempre le attività fondamentali che sono appunto la scrittura della candidatura tutto ciò che riguarda appunto il vostro background gli obiettivi che dovete raggiungere questi sono importanti che sono diciamo questo tipo di attività vi permette di ricrescere e di avere una candidatura autentica quindi se è interno il consulente non è un consulente perché diciamo fa parte della vostra associazione se è esterno in questa fase non vi può scrivere la candidatura ecco diciamo parlando papà ecco sì ma io pensavo all'inizio della presentazione che è stata fatta avete parlato di che cosa si intende per staff e quindi piuttosto partecipazione al progetto di mobilità allora sono stati nominati dipendenti sono stati nominati volontari allora mi chiedevo se in caso di consulenze non lo so persone che collaborano possono essere anche loro persone che partecipano alla mobilità volevo chiarire solo quello sì sì no per quello sì sicuramente sì possono partecipare basta ci sia come diceva la collega un minimo di contratto di associazione che leghi comunque il nome alla vostra associazione e al vostro ente ok e invece per invece le persone con meno opportunità perché ci possa essere il contributo che cosa si richiede poi lo vedremo anche successivamente nelle presentazioni dove ci sarà la richiesta del budget ovviamente quando poi sarà la vostra speriamo la candidatura approvata poi ci sono delle esposizioni nazionali dove si specificano chi possono essere le persone con fewer opportunities quali tipi di documenti tenere agli atti e quali contributi danno insomma avere sono fewer opportuni se diciamo si apre un po' la dotazione di bilancio però ecco la vediamo magari più nello specifico va dal supporto può essere organizzativo per questo tipo di persone che partecipano all'attività fino a dei contributi che possono essere supportati per costi reali però ecco glielo dico brevemente perché insomma adesso siamo proprio all'inizio della 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 candidatura e quindi ecco vi interessa andare più sulla qualità e sugli obiettivi da raggiungere ma penso che sarebbe utile saperlo però comunque lo avremo saranno indicazioni successive come contributi glielo posso anche dirlo non i contributi che documenti documenti come si prova qual è la prova poi si dà documenti easy a tutto ciò che attesta al figure opportunities quindi è un documento easy per quanto riguarda uno svantaggio economico lo svantaggio può essere anche sociale può essere uno svantaggio quindi geografico può essere magari anche basse competenze quindi magari se hai intenzione di fare diciamo un progetto si basa su muovere gruppi di magari adulti con basse competenze già rientrano in figure opportunities ecco ci basta anche una dichiarazione da parte vostra poi magari ecco se c'è contatta direttamente le posso magari anche inviare le disposizioni in merito a quelli che si avvicinano insomma le disposizioni nazionali per quanto riguarda le tipologie di questi partecipanti la ringrazio prego allora se non ci sono altre domande per alzata di mano o qualcun altro vuole intervenire possiamo procedere ci sono c'è qualche domanda anche nella box domanda risposta credo che la signora che ha appena parlato riguarda le prime due domande nel box risposta e poi la signora Francesca chiede da quando sarà possibile candidarsi per comodità l'ho appena letta per cui ve la rigiro come domanda grazie ok poi ritorno un attimo su questo discorso dei dei few opportunities magari ecco anzi facciamo così rispondo subito per concludere appunto l'argomento precedente non so se la domanda era più su quale è la tipologia o appunto di persone che rientrano questa classificazione o sui documenti comunque per quanto riguarda il di persone volevo segnalare che appunto sul nostro sito ora possiamo mettere un link anche qua in chat comunque c'è una sezione che riguarda proprio dall'home page le priorità e quindi la priorità dell'inclusione e ci sono appunto le disposizioni nazionali per l'inclusione per il settore istruzione scolastica educazione degli adulti e le varie insomma appunto riferimenti disagio economico di scelte adulti con bassi livelli di altra di adulti con cittadinanza non italiana rifugiati richiedenti asilo disoccupati non preoccupati vittime di violenza genitori monoparentali insomma c'è tutta una anche proprio un po' una categorizzazione e a cui si può fare riferimento adesso metto il link su per quanto riguarda insomma appunto la documentazione inizialmente comunque a livello di senz'altro di candidatura è più basato insomma sulla sulla vostra dichiarazione e sulla dichiarazione del rappresentante legale dell'istituzione che diciamo lo autocertifica ecco poi magari invece in sede dopo di eventuali controlli e quant'altro può essere richiesta insomma una qualche forma di documentazione appunto fatto salvo come diceva il collega e poi magari questo è più diciamo relativo alla richiesta proprio dei finanziamenti e quindi sarà trattato più approfonditamente nel infodei collegato proprio appunto noi adesso stiamo parlando di Caccia 120 domanda di accreditamento dopodiché una volta accreditati annualmente potrete richiedere le diverse attività e invece appunto grazie della domanda che è stata letta da quando è possibile già inserire la candidatura non so se abbiamo una notizia precisa questo appunto non dipende da noi dipende dalla commissione europea da quando abilita i tool ecco procedo vado guardi intervengo in realtà è già possibile cominciare a predisporre la candidatura sull'apposita pagina web quindi fate il login come vi ha spiegato il collega del brocco e cominciate a metter giù la vostra candidatura certo per poi la deadline abbiamo detto che è il primo ottobre quindi organizzarsi per tempo ecco di disammittarla poi di continuare a riaccedere tenere sott'occhio il sito grazie grazie Giada ecco potete aprire già intervenire successivamente la raccomandazione come è stato detto prima poi di non aspettare l'ultimo giorno perché ci può essere insomma una poi il sistema può andare un po' in crash se ci sono troppe sapete insomma le domande si ricevono da tutta Europa e per tutti i settori quindi insomma siamo nell'ordine di diverse migliaia e in ultimo giorno ci può essere qualche qualche problema tecnico meglio anticiparsi ok cerco di ricontattare la signora Caterina che prima voleva intervenire vedo che ha anche inserito la domanda nel box domanda e risposta ma se in linea prego vedo attivo il suo microfono ma non sentiamo nulla magari se ci ascolta le possiamo dire se ci sento più che altro le possiamo dire che se non riusciamo a sentirci in questa sede di mandarci una mail o telefonarci durante gli orari di help desk così che possiamo comunque metterci in contatto e diciamo fare un po' chiarezza sulla domanda che aveva niente vedo che non riesce a probabilmente attivare il microfono ma qual è la domanda della signora Caterina se volete posso leggerla io non so se vedete il box immagino di sì domanda e risposta perdonami la domanda relativamente al cpa stretto terreno ionico di reggio calabria esatto è quella su ok quindi la dottoressa chiede fondamentalmente quindi non è stata indicata la persona di contatto cioè questa è la domanda cioè dice sono la dsga del cpa stretto terreno ionico di reggio calabria abbiamo avuto un accreditamento ma non è stata indicata come per tutti altri progetti a cui abbiamo partecipato la persona di contatto è come mai abbiamo inviato anche una nota con il mio dirigente scolastico per chiedere l'inserimento allora posso dire che in questi casi sollecitiamo sempre appunto l'invio di una mail ancora meglio diciamo così l'invio di una PEC su carta intestata dell'ente con firma del rappresentante legale in maniera tale che poi si può procedere diciamo così a una modifica d'ufficio quindi suggeriamo sempre questo lo dico magari ecco colgo l'occasione e ringrazio la dottoressa per la domanda perché è un tema che ci capita spesso per i motivi che mi era capitato di dire anche prima cioè in sostanza le persone cambiano passano ad altro ufficio passano come dire ad altro ente magari è lavoro quindi spesse volte le persone di contatto cambiano magari c'è anche una riorganizzazione aziendale che porta una modifica tra i rappresentanti legali in questo caso suggeriamo sempre di inviare una PEC al nostro indirizzo con tutte le informazioni con il documento della persona che subentra e una nota firmata appunto da rappresentante legale in cui si chiede la modifica dei dati di contatto quello è sempre possibile farlo e ce ne occupiamo insomma nel normale lavoro d'ufficio ecco spero che la dottoressa se mi ha sentito insomma abbia colto la risposta altrimenti ci potrà mandare una mail o comunque insomma noi rispondiamo anche attraverso i canali come diceva come dicevano i colleghi prima tutto qui ok c'è un'altra domanda in box di Francesca Vittorelli da quando sarà possibile candidarsi ah la dottoressa Vittorelli si si avevamo già risposto in sostanza la collega e la dottoressa Venturi avevano già risposto si insomma ok infatti abbiamo detto che i moduli sono già aperti quindi potete già entrare nel sistema iniziare a scrivere la candidatura la signora Caterina ringrazia per il riscontro perché ci ha ascoltato si figuri grazie a lei per la domanda siamo qua stavo vedendo le altre domande in appunto poste in chat ma mi sembra che poi alla fine abbiamo risposto quindi consulenti esterni abbiamo risposto documenti per documentare la presenza di persone con minore opportunità appunto sono poi seconda insomma nello specifico problema però comunque in fase di candidatura no è possibile vedere la registrazione dell'incontro assolutamente sì insomma lo ripeto ancora sul nostro sito anzi poi è riproposto nei social su youtube e quant'altro da quando mando per la selezione ambasciatori e ok quindi non so se ci sono altre domande le prendiamo volentieri sì Laura Ciampini sarà possibile avere un attestato della partecipazione al webinar questo no no mi spiace su questo non rilasciamo attestazione di partecipazione perché è libero e ha descrizione libera insomma quindi no mi spiace vediamo se ci sono altre domande ok altrimenti direi che niente ci possiamo avviare alla conclusione dell'incontro in effetti insomma comunque abbiamo anche dedicato più tempo abbiamo potuto dedicare più tempo del previsto anche alle domande e io niente ringrazio tutti davvero per la per la partecipazione ci fa piacere scusami Caterina dice che ha scritto che non ha sentito il riscontro alla tua prima domanda ossia quello il cpia si può consorziare sì assolutamente sì ora poi lascio la risposta anche ai colleghi quindi la domanda è se il cpia si può consorziare ok sì sì assolutamente sì cioè può diventare un membro di consorzio ovviamente c'è da fare una premessa che è ovvia ma la si fa comunque quando si prende parte ad un consorzio questo implica il fatto che avete una visione e comunque degli obiettivi che sono condivisi più che altro dal coordinatore di consorzio dagli altri membri di consorzio e quindi sì assolutamente noi abbiamo per esempio anche tanti consorzi formati da cpia faccio un esempio anche lo stesso sr può includere dei membri consorziati che siano i cpia quindi benvenga se si dovesse far parte comunque di un consorzio in quanto ente consorziato questo non toglie magari anche il fatto di potersi candidare in prima persona inteso come organizzazione come cpia come scuola per l'accreditamento comunque ecco spero di aver risposto in maniera esaustiva sì infatti diciamo che il cpia è assolutamente insomma uno dei destinatari principali nel settore di questa azione abbiamo fatto spesso appunto anche iniziative a supporto sia con Erasmus che con l'unità epale e seminari di formazione partecipiamo regolarmente anche agli incontri di Fierida dove insomma organizzati dalla RIDAP dalla rete dei cpia proprio per per incoraggiare la partecipazione il più possibile dei cpia a Erasmus nel nostro settore e devo dire che insomma nel tempo la partecipazione è sicuramente cresciuta sia in termini numerici che in termini qualitativi anche proprio di qualità progettuale e appunto come diceva anche la collega abbiamo già con piacere anche la partecipazione di a questo punto cinque uffici scolastici regionali cinque OSR che dal primo anno dal 2021 c'era già la Toscana per un po' è stato l'unico alla scorsa scadenza di accreditamento hanno partecipato il il Piemonte la Lombardia il Veneto e il Molise quindi questi quattro uffici scolastici hanno proposto candidatura come consorzio proprio con l'intento anche di coinvolgere via via le diverse realtà regionali proprio perché in alcuni casi magari alcuni cpia sono meno propositivi e fanno più difficoltà proprio a magari inviare una candidatura singolarmente ma viceversa hanno anche più il bisogno di sviluppare al loro interno alcune capacità alcune insomma competenze quindi l'invito è anche insomma a verificare eventualmente vi potete mettere se siete appunto in una di queste regioni anche in contatto con l'USR oppure incoraggiare il vostro ufficio scolastico regionale a inviare candidature e come avete visto appunto anche la partecipazione proprio del del ministero dell'istituzione del merito a questo incontro proprio anche a sostegno della partecipazione anche delle delle organizzazioni insomma degli uffici periferici quindi USR e quant'altro comunque sì ok c'è Francesca che domanda se si può inviare la candidatura solo se la scuola è accreditata ma credo che sia già stato risposto giusto scusatemi non ho ben capito è già accreditata no allora c'è forse un equivoco nel senso che insomma qui stiamo parlando appunto di richiedere l'accreditamento esatto veramente per chi non è ancora accreditato dopodiché poi come abbiamo detto annualmente si fa domanda per le attività di ogni annualità parallelamente se no ci sono i progetti insomma più piccoli di breve durata per la prossima candidatura ormai sarà a febbraio 2025 prossima scadenza ringrazia la mia scuola ha già avuto un accreditamento appunto dipende se ora se è un cpia sarà chiaramente sul settore ad esattamente quindi l'accreditamento si richiede giustamente una volta sola per ovvie ragioni che sono quelle anche della durata perché l'accreditamento va fino alla fine del programma quindi non avrebbe senso richiedere più accreditamenti più che altro non so se magari può essere una scuola che è già accreditata nel settore scuola che avendo magari dei corsi serali potrebbe anche accreditarsi nel settore educazione degli adulti perché no ovviamente ok ecco appunto sì penso che questo l'abbiamo chiarito l'accreditamento si richiede una sola volta dopodiché si rimane accreditati fino al termine del programma e chissà verosimilmente anche oltre ma se lo vedremo lo scopriremo e se invece ad esempio è una scuola che è accreditata sul settore scuola però può richiedere anche l'accreditamento sul nostro settore sull'educazione degli adulti di cui stiamo parlando e un accreditamento per settore e allora di nuovo di nuovo grazie grazie a tutti vi ricordo appunto di nuovo il nostro sito vi consiglio anche di seguire i nostri social che sono cioè noi siamo su facebook siamo su instagram siamo su linkedin adesso è stato aperto anche il canale telegram per la comunicazione di eventi e quindi insomma lì potete avere anche appunto informazioni puntuali su eventi su occasioni specifiche grazie davvero dell'interesse io vi ricordo insomma quelli che è proprio il quadro delle priorità strategiche dei nostri valori e alla base di tutto penso che ci sia davvero l'interesse a innovarsi ad andare avanti a conoscere nuove realtà che è sempre uno stimolo è sempre uno stimolo alle attività quotidiane insomma ci fa ci fa vedere a volte tutto sotto una nuova luce dà motivazione grazie di nuovo grazie ai colleghi grazie a tutti voi che ci avete ascoltato buon buon lavoro e buon Erasmus a tutti grazie mille grazie mille a tutti grazie mille ai colleghi e buona serata chiudiamo qui la sessione allora grazie ciao a tutti buonasera grazie ciao